Ragazzi, Koli a Krasotkin. Inizi di novembre. In città la temperatura era scesa a 11 gradi sotto lo zero e c'era gelo dappertutto. Sul terreno ghiacciato, durante la notte, era caduta un po' di neve secca e il vento secco e tagliente la sollevava e la spazzava via dalle strade uggiose della nostra cittadina, soprattutto nella piazza del mercato. Era una mattina nuvolosa, ma il nevisco era cessato. Non lontano dalla piazza, nelle vicinanze della bottega dei Plotnikov, si ergeva la casetta di modeste dimensioni, linda linda all'esterno come all'interno, di proprietà della vedova del funzionario Krasotkin. Quanto a quest'ultimo, il segretario distrettuale Krasotkin era morto da molto tempo, quasi 14 anni addietro, mentre la sua vedova, una signora sulla trentina, ancora molto piacente, era viva e vegeta, e viveva nella sua casetta linda con sua propria rendita. Conduceva una vita onorata e modesta, aveva un carattere dolce, ma piuttosto allegro. Aveva circa 18 anni, quando l'era morto il marito, aveva vissuto insieme a lui un anno, più o meno, e gli aveva appena dato alla luce un figlio. Da quel giorno, dal giorno della morte del marito, egli aveva dedicato tutta se stessa all'educazione del suo tesoruccio, il piccolo Kolia. Sebbene per 14 anni lo avesse amato con tutta l'anima, egli gli aveva procurato molti più dispiaceri che gioie. Ogni giorno tremava, e quasi moriva di paura per il timore che Kolia si ammalasse, prendesse il raffreddore, combinasse qualche monelleria, salisse su una sedia e cadesse, e così via. Quando Kolia iniziò ad andare a scuola e poi al nostro ginnasio, la madre si mise a studiare a capofitto tutte le materie insieme a lui, per aiutarlo a capire e ripetere le lezioni. Si era data da fare, per conoscere gli insegnanti e le loro mogli, coccolava persino i compagni di Kolia e altri scolaretti, e li vezzeggiava, nella speranza che non toccassero Kolia, non lo prendessero in giro, non lo picchiassero. Portò le cose a tal punto, che i ragazzini si misero davvero a prenderlo in giro per via della mamma e cominciarono a stuzzicarlo, con l'appellativo di figlio di mamma. Ma il ragazzo se la sapeva cavare. Era un ragazzino coraggioso, terribilmente forte, come si sparse la voce in classe, e fu subito confermato dai fatti. Era abile, di carattere tenace e di temperamento audace e intraprendente. Andava bene a scuola e si diceva persino che in aritmetica e storia universale battesse anche il maestro Dardanelov. Ma, anche se il ragazzino guardava tutti dall'alto in basso, storcendo il suo nasino, con i compagni era buono e non si dava arie. Accoglieva il rispetto dei compagni come qualcosa di dovuto, ma con loro si comportava da amico. Quel che più conta, conosceva la misura, all'occasione sapeva controllarsi, e nei confronti dei superiori non oltrepassava mai quell'estremo recondito limite oltre il quale la trasgressione non poteva più essere tollerata, poiché diveniva disordine, rivolta in subordinazione. Eppure gli piaceva moltissimo combinarne di tutti i colori, alla minima occasione, combinarne come l'ultimo dei ragazzacci, e non solo per il gusto di combinarle, ma piuttosto per studiare qualche bel tiro, per sbalordire, per dare qualche strigliata, per darsi arie e mettersi in mostra. Era molto pieno di amor proprio. Aveva saputo sottomettere alla propria volontà persino sua madre, e con lei si comportava in maniera quasi dispotica. Ed ella si sottometteva. Era da un pezzo che si sottometteva. L'unico pensiero che non riusciva a tollerare era che il suo ragazzo le volesse poco bene. Le sembrava sempre che Colia fosse insensibile verso di lei, e c'erano delle volte in cui, prorompendo impianti isterici, prendeva ad accusarlo di freddezza. Il ragazzino questo non lo sopportava, e più dimostrazioni di affetto gli venivano richieste, più diventava scontroso, quasi a farlo apposta. Tuttavia egli non faceva questo intenzionalmente, ma inconsciamente. Era il suo carattere. Era la mamma che sbagliava. Egli amava molto la sua mamma, solo che non amava quelle smancerie da parte sua, come diceva nel suo gergo scolastico. In casa c'era uno scaffale che conteneva alcuni libri lasciati dal padre. Colia amava leggere, e ne aveva letti già diversi per conto suo. La madre non si dava pensiero per questo, solo che le sembrava strano che il ragazzino a volte, invece di andare a giocare, se ne stesse ore e ore presso quello scaffale, a leggere ora questo ora quel libro. E così, Colia lesse cose che non avrebbero dovuto permettergli di leggere alla sua età. Nel resto, negli ultimi tempi, sebbene il ragazzino non amasse oltrepassare un certo limite nelle sue birichinate, aveva preso a combinarne alcune che avevano suscitato un serio allarme nella madre. Certo, non erano azioni immorali, ma in compenso erano temerali e scervellate. Era successo che quell'estate, a luglio, durante le vacanze, mamma e figlio erano andati a passare una settimana in un altro distretto, a 70 verse di distanza, come ospiti di una lontana parente, il cui marito lavorava nella locale stazione ferroviaria, quella stessa stazione, la più vicina alla nostra città, dalla quale sarebbe partito Ivan Fyodorovich Karamazov un mese più tardi, diretto a Mosca. La, Colli aveva cominciato ad esaminare la ferrovia in tutti i dettagli e a studiare a fondo tutti i regolamenti, ben sapendo che quelle nuove cognizioni, una volta tornato in città, avrebbero potuto far colpo sui suoi compagni di scuola. Ma in quel periodo si trovavano lì anche altri ragazzini, con i quali fece presto amicizia. Alcuni di loro vivevano alla stazione, altri nelle vicinanze. Erano sei o sette ragazzi in tutto, in età compresa fra i dodici e i quindici anni, e due di questi provenivano dalla nostra stessa città. I ragazzi giocavano e combinavano birichinate insieme, quando ecco che al quarto o quinto giorno della loro permanenza alla stazione, quegli stupidi ragazzi scommisero due rubli su una cosa semplicemente inaudita. Colia, che era uno dei più giovani e quindi veniva un po' disprezzato dagli anziani, spinto dall'amor proprio o dalla sua sfrenata intrepidezza, si offrì di sdraiarsi fra i binari, quando sarebbe passato il treno delle undici, e di rimanerci senza muoverci, finché il treno non gli fosse passato sopra a tutta velocità. In verità avevano fatto un sopralluogo preliminare, dal quale era risultato che era possibile stare sdraiati lunghi lunghi, appiattiti fra i binari, senza che il treno passando schiacciasse la persona sdraiata. Comunque ci voleva lo stesso un bel coraggio a sdraiarsi. Colia sosteneva con decisione che si sarebbe sdraiato. Sulle prime risero di lui, lo chiamarono bugiardello e fanfarone, ma così facendo lo aizzarono sempre di più. Soprattutto quei quindicenni avevano esagerato a storcere il naso con lui e all'inizio non avevano nemmeno voluto accettarlo nella compagnia, perché era un pivello, il che era stato terribilmente offensivo per Colia. Quindi si decisero ad andare, verso sera, in un punto a una versa di distanza dalla stazione, in modo che il treno, allontanandosi dalla stazione, avesse avuto già tempo di prendere velocità. I ragazzacci si riunirono. Era calata una notte senza luna, più che scura, nera. Allora convenuta, Colia si sdraiò fra i binari. Gli altri cinque, che avevano accettato la scommessa, con il fiato sospeso ma, verso la fine ormai terrorizzati e pieni di rimorso, aspettavano ai piedi della scarpata, fra i cespugli. Finalmente si udì il fragore del treno in lontananza che si allontanava dalla stazione. Dall'oscurità spuntarono scintillanti due fanali rossi. Il mostro si avvicinava sferragliando. Corri, corri via dai binari, gridarono i ragazzacci dai cespugli, atterriti. Ma era troppo tardi. Il treno piombò lì in un attimo e setto via di gran carriera. I ragazzazzi si precipitarono da Colia. Questi giaceva immobile. Cominciarono a tirarlo, a sollevarlo. Ad un tratto Colia si alzò e scese dalla scarpata senza dire una parola. Giunto di sotto, dichiarò di aver finto di essere svenuto, per farle spaventare. Ma la verità era che aveva davvero perduto i sensi, come confessò in seguito, molto tempo dopo, alla sua mamma. In questo modo, la sua fama di temerario si consolidò una volta per tutte. Tornò a casa dalla stazione pallido come un cencio. Il giorno seguente si ammalò di una leggera febbre nervosa. Ma di umore era incredibilmente allegro, contento e soddisfatto. Non si venne a sapere subito dell'incidente, ma quando tornarono in città, la notizia fece il giro della scuola e raggiunse l'orecchio dei superiori. Ma, a quel punto, la mammina di Colia si precipitò a supplicare l'indulgenza dei superiori per il suo ragazzo e andò a finire che lo stimato e influente insegnato Dardanelov prese le sue parti, intercedette per lui e la faccenda fu ignorata come se non fosse mai accaduta. Questo Dardanelov, uno scapolo ancora giovane, era appassionatamente innamorato della signora Krasotkina, da molti anni ormai, e già una volta, circa un anno addietro, si era rischiato, nella maniera più rispettosa e tremando di paura e delicatezza, a chiederle la mano. Ma lei aveva rifiutato seccamente, ritenendo che accettare la sua proposta sarebbe equivalso a tradire il suo ragazzo, anche se Dardanelov, in base a qualche misterioso sintomo, forse avrebbe avuto un certo diritto di sognare di non essere completamente sgradito dall'incantevole, ma troppo pudica e gracile vedovella. La folle berichinata di Kolia sembrava aver rotto il ghiaccio, e a Dardanelov, in cambio della sua intercessione, fu concesso un barlume di speranza. In verità un barlume molto fioco, ma anche Dardanelov era un campione di purezza e delicatezza, e quindi quel barlume gli bastò a renderlo perfettamente felice per il momento. Egli voleva bene il ragazzo, anche se trovava umiliante cercare di ingraziarselo, quindi con lui, a lezione, era esigente e severo, ma anche Kolia, da parte sua, lo teneva a rispettosa distanza. Si preparava in maniera eccellente alle lezioni, era il secondo della classe, e manteneva un freddo contegno. Tutti i suoi compagni erano fermamente convinti che, in storia universale, Kolia fosse così preparato ad abbattere anche Dardanelov. Infatti, Kolia una volta gli aveva posto la domanda «Chi fondò Troia?» al che Dardanelov aveva risposto vagamente, parlando di popoli, dei loro spostamenti, delle trasmigrazioni, della remotezza dei tempi, della mitologia, ma non riuscì a rispondere esattamente alla domanda su chi effettivamente avesse fondato Troia, cioè proprio quali persone, anzi, chissà perché, considerava la domanda oziosa e inconsistente. Ma i ragazzi restarono della convinzione che Dardanelov non sapesse chi aveva fondato Troia. Kolia, invece, aveva appreso chi fossero i fondatori di Troia dallo Smaragdov che si conservava fra i volumi lasciati dal padre. Andò a finire che tutti i ragazzi si interessarono alla questione della fondazione di Troia, ma Krasotkin non voleva svelare questo segreto e la sua fama di grande erudito rimase intatta. Dopo l'episodio della ferrovia, anche l'atteggiamento di Kolia nei confronti della madre subì un certo cambiamento. Quando Anna Fyodorovna, la vedova Krasotkina, venne a conoscere dell'impresa del figlio, per poco non impazzì. Ne presero degli attacchi isterici così gravi che duravano con alcuni intervalli per alcuni giorni di seguito, tanto che Kolia, ormai spaventato sul serio, vedette la sua parola d'onore che simili pirichinate non si sarebbero più ripetute. Egli si inginocchiò davanti all'icona e giurò sulla memoria di suo padre, come pretese la stessa signora Krasotkina. In questa occasione anche il virile Kolia scoppiò a piangere come un bambino di sei anni per quei sentimentalismi e madre e figlio per tutto il giorno non fecero che gettarsi una nelle braccia dell'altro, tra i singhiozzi. Il giorno seguente Kolia si svegliò insensibile come prima, anche se si era fatto più taciturno, timido, severo e pensieroso. Vero è che sei settimane più tardi gli capitò di combinarne un'altra delle sue, tanto che il suo nome arriva persino al giudice conciliatore. Ma questa volta la birichinata era di tutt'altro genere, persino ridicola, una stupidaggine insomma. E poi si scoprì pure che non era stato lui a compierla, ma che si era solo trovato coinvolto. Ma di questo parleremo in seguito. La madre continuava a trepidare e a tormentarsi, mentre Dardanelov più cresceva l'allarme di lei, più intravedeva delle speranze per sé. Va detto che Kolia aveva compreso e inquadrato Dardanelov da questo punto di vista, e si intende lo disprezzava profondamente per i suoi sentimentalismi. Aveva avuto persino la mancanza di tanto di esprimere questo disprezzo alla madre, alludendo alla lontana, che egli comprendeva a che cosa mirasse Dardanelov. Ma dopo il fatto della ferrovia, egli, anche a questo riguardo, cambiò il suo atteggiamento. Non si permetteva più allusioni, neanche le più remote, sul conto di Dardanelov. Davanti alla madre cominciò a pronunciarsi con maggior rispetto, il che fu immediatamente colto con infinita riconoscenza dalla sensibile Anna Fiodorovna, ma in compenso, al minimo, anche casuale accenno di qualunque ospite alla persona di Dardanelov, in presenza di Kolia, e la diventava rossa come una rosa, per la vergogna. Kolia, in quelle occasioni, guardava accigliato fuori dalla finestra, o si metteva a controllare se avesse qualche buco negli stivaletti, oppure chiamava erosamente per Edzvon, l'irsuto e piuttosto robusto cane tignoso, che da circa un mese aveva pescato da qualche parte. Se l'era trascinato in casa, e per qualche ragione lo teneva nascosto, in gran segreto, senza mostrarlo a nessuno dei suoi compagni. Lo tiranneggiava in maniera spaventosa, gli insegnava ogni tipo di trucchi e giochetti, e lo aveva ridotto al punto che il povero cane guaiva, quando lui si assentava per andare a scuola, mentre quando tornava gongolava per la gioia, saltava come un pazzo, si metteva sull'attenti, si rotolava per terra, faceva il morto e così via. Insomma, si esibiva in tutti i numeri che lui gli aveva insegnato, non più a comando, ma semplicemente per l'ardore dei suoi sentimenti e del suo cuore riconoscente. A proposito, ho dimenticato di dire che Kolia Krasotkin era quello stesso ragazzino che il piccolo Yusha, già noto ai lettori, il figlio del capitano a riposo Snegiriev aveva ferito alla coscia con il temperino per difendere il padre che i compagni di scuola chiamavano straccio di stoppa. 2. Mocciosi E così, quella gelida e nevosa mattina di novembre, il ragazzo Kolia Krasotkin se ne stava a casa. Era domenica e non si andava a scuola. Erano appena rintoccate le undici e doveva assolutamente uscire per una faccenda molto importante, ma era stato lasciato solo proprio in qualità di sorvegliante della casa, dal momento che tutti gli inquilini adulti della casa per qualche straordinaria emergenza erano fuori. Nella casa della vedova Krasotkina l'appartamento che la stessa occupava era separato dall'andito da un appartamentino di due stanze che ella dava in affitto. Lo occupava la moglie di un dottore con due bambini piccoli. Questa signora era coetanea Diana Fiodorovna e sua grande amica. Il dottore invece era andato via un anno dietro, inizialmente dalle parti di Orenburg e poi a Taskent ed erano già sei mesi che non si avevano notizie di lui. Tanto che se non fosse stato per l'amicizia della signora Krasotkina che in qualche modo leniva il dolore dell'abbandonata moglie del dottore, questa si sarebbe senz'altro consumata di dolore e di lacrime. Ed ecco che in aggiunta a tutte le disgrazie del destino, proprio quella notte, tra il sabato e la domenica, Caterina, l'unica serva della quale disponeva la moglie del dottore, all'improvviso e del tutto inaspettatamente per la sua padrona, le comunicò di avere intenzione di dare alla luce a un bambino prima dell'alba. Come era accaduto che nessuno se ne fosse accorto prima, fu considerato un miracolo da tutti. La moglie del dottore, sconvolta, decise, finché si era in tempo, di condurre Caterina in un istituto della nostra città, allestito da un'allevatrice per simili avvenienze. Dal momento che voleva molto bene a questa serva, mise subito in atto il suo proposito, la condusse dalla levatrice e per di più rimase con lei. Poi, a mattina fatta, si rese necessaria, chissà perché, tutta l'amichevole compartecipazione e il soccorso della stessa signora Krasotkina, la quale in questa occasione potrà chiedere un certo favore a una certa persona e quindi far valere la sua protezione. In tal modo, le due signore erano assenti, la serva della signora Krasotkina, Agafia, era andata al mercato e Colia svolgeva momentaneamente le mansioni di custode e di sorvegliante dei marmocchi, cioè del bambino e della bambina della moglie del dottore, che erano stati lasciati soli. Colia non aveva paura di fare la guardia alla casa, tanto più che aveva con sé Peretvon, al quale era stato ordinato di restare immobile sotto la panca dell'anticamera e proprio per questo, ogni volta che Colia passava per l'anticamera, durante il giro di ispezione delle camere, scrollava la testa e assestava due o tre colpi di coda violenti e insinuanti, ma, ahimè, non sentiva in risposta il fischio del richiamo del padrone. Colia gettava uno sguardo minaccioso sull'infelice cane e quello si impietriva un'altra volta in una docile rigidità. Ma, se c'era qualcosa che turbava Colia, quelli erano i marmocchi. All'imprevista avventura di Caterina, egli ovviamente guardava con il più profondo disprezzo, ma voleva un gran bene a quei marmocchi abbandonati e già aveva portato loro un libricino per bambini. Nastia, la maggiore, sugli otto anni, sapeva leggere, mentre il marmocchio più piccolo, Costia, di sette anni, amava molto ascoltare e leggere Nastia. Krasotkin sarebbe certo potuto trovare loro un'occupazione più divertente. Avrebbe potuto disporli uno a fianco dell'altro e giocare ai soldati o giocare all'impiattino per tutta la casa. L'aveva già fatto in passato e non disdegnava di farlo, tanto che persino in classe si era sparsa la voce che Krasotkin, in casa, giocava a cavalluccio con i piccoli inquilini e saltava e agitava il muso come un bilancino. Ma Krasotkin aveva ribattuto fieramente a questa accusa, facendo notare che, di quei tempi, sarebbe stato vergognoso giocare a cavalluccio con dei coetanei dei tredicenni mentre lui giocava con dei marmocchi perché nutriva dell'affetto per loro e certo non era tenuto a dar conto a nessuno dei propri sentimenti. Da tanto loro quei marmocchi lo adoravano, ma quella volta non era in vena di giocare, lo attendeva una faccenda personale della massima importanza e anche misteriosa si sarebbe detto e intanto il tempo passava e a gaffia, alla quale avrebbe potuto lasciare i bambini, non si decideva a tornare dal mercato. Più di una volta aveva attraversato l'andito e aperto la porta che dava nella stanza della moglie del dottore per dare uno sguardo preoccupato ai marmocchi, i quali, secondo il suo ordine, se ne stavano seduti a leggere il libricino e ogni volta che lui apriva la porta gli allargivano larghi sorrisi, senza dire una parola, nella speranza che entrasse e si mettesse a fare qualche gioco meraviglioso e divertente. Ma Colli era molto agitato e non entrava mai. Alla fine rintoccarono le undici e lui si propose definitivamente con fermezza che, se quella maledetta agafia non fosse tornata entro dieci minuti, sarebbe uscito senza aspettarla. solo dopo aver fatto giurare ai marmocchi che non avrebbero avuto paura senza di lui, non avrebbero combinato monellerie e non avrebbero pianto per la paura. Mentre rimuginava su questi pensieri si infilò il cappottino invernale imbottito con il bavero di pelliccia di lontra, si mise la borsa a tracolla e incurante delle reiterate suppliche della madre di mettere sempre le calosce quando doveva uscire con quel freddo si limitò a degnarle di uno sguardo attraversando l'anticamera e uscì solo con gli stivali. Predfon nel vederlo vestito per uscire fece per battere vigolosamente la coda sul pavimento dimenandosi nervosamente ed emettendo un guaito lamentoso. Ma Colia vedendo l'appassionata erruenza del suo cane giudicò che fosse un segno di indisciplina e non fosse che per un minuto lo fece restare sotto la panca poi solo quando ebbe aperta la porta dell'andito gli fece il suo fischio di richiamo il cane scattò in piedi come impazzito e si mise a saltare davanti a lui per l'entusiasmo attraversato l'andito Colia aprì la porta dei marmocchi stavano tutti e due seduti come prima al tavolino ma non leggevano più stavano discutendo animatamente su qualcosa quei bambini discutevano spesso fra di loro su vari e avvincenti problemi della vita e in quelle occasioni Nastia che era la maggiore aveva sempre la meglio e quando Costia non era d'accordo con lei quasi sempre andava ad appellarsi a Colia Krasotkin il cui verdetto era sempre considerato infallibile da tutti e due i bambini questa volta la discussione dei bambini interessava al quanto Krasotkin ed egli si fermò sulla soglia ad ascoltare i bambini videro che stava ascoltando e si accalorarono ancora di più nel loro battibecco non ci crederò mai mai cinguettava con calore Nastia che le levatrici trovano i bambini nell'orto tra i filari di cavoli adesso è inverno non ci sono filari e la levatrice non può aver portato la figlia a Caterina fischiò tra sé Colia allora è così quelle prendono i bambini da qualche parte ma li portano solo a quelle sposate Costia fissava Nastia con molta attenzione intento ad ascoltare e ponderare Nastia come sei sciocca disse alla fine con fermezza ma senza accalorarsi come fa ad avere un bambino Caterina se non è sposata Nastia si esasperò non capisci proprio un bel niente bottò con irritazione forse il marito ce l'aveva ma adesso è in prigione così adesso lei ha un bambino ma ha davvero il marito in prigione si informò con tono grave il piccolo Colia oppure lo interruppe improvvisamente Nastia rovesciando del tutto e dimenticando la sua prima ipotesi non ha marito hai ragione ma vuole sposarsi e così ha iniziato a pensare a sposarsi e a forza di pensare alla fine l'ha avuto non il marito ma il bambino beh forse è così ha senti Costia convinto ma prima non ha detto così e io come facevo a saperlo ah mocciosi disse Colia entrando nella stanza vedo che siete dei tipi pericolosi c'è anche Peretzvon con voi sorrise Costia e cominciò a schioccare le dita per chiamare Peretzvon marmocchi io sono in difficoltà esordì Krasotkin con aria grave e voi dovete aiutarmi a grafia evidentemente si è rotta una gamba dal momento che fino ad ora non si è fatta viva questo è certo ma io devo assolutamente uscire mi permettete di uscire oppure no i bambini si scambiarono un'occhiata preoccupata i loro visi sorridenti cominciavano a mostrare segni di inquietudine del resto non capivano esattamente che cosa si volesse da loro non farete i monelli in mia assenza non vi arrampicherete sugli scaffali non vi romperete una gamba non piangerete per la paura di restare soli in casa sul viso dei bambini si dipinse una terribile angoscia e io come premio vi posso mostrare una cosina un cannoncino di bronzo che può sparare con vera polvere da sparo i vigetti dei bambini si illuminarono di colpo mostrateci il cannoncino disse costi a tutta raggiante krasotkin e raccontò che il cannoncino rinculava dopo il colpo i bambini lo ascoltavano rapiti quello che maggiormente colpì la loro immaginazione fu il rinculo del cannone e voi avete la polvere da sparo si informò Nastia ce l'ho mostrateci anche la polvere da sparo chiese strascicando le parole con sorriso implorante krasotkin affondò ancora una volta la mano nella cartella ed estrasse una piccola fiaschetta che conteneva una piccola quantità di autentica polvere da sparo in un foglio di carta arrotolato c'era anche una manciata di pallini egli strappò persino la fiaschetta e versò un po' di polvere sul palmo bisogna solo stare attenti che non ci sia fuoco nelle vicinanze altrimenti potrebbe scoppiare e ammazzarci tutti quanti avvertì krasotkin per far colpo i bambini guardarono la polvere con timore reverenziale che rendeva ancora più intenso il loro godimento ma a costia piacquero di più i pallini e i pallini non bruciano si informò non bruciano regalatemi un po' di pallini chiese con voce implorante ti regalerò un po' di pallini ecco prendi ma non farli vedere a tua madre finché non sarò tornato altrimenti penserà che sia polvere da sparo morirà di paura e vi frusterà la mamma non ci picchia mai l'ho detto solo per ragioni stilistiche e voi non dovete mai ingannare la mamma tranne questa volta finché non tornerò io allora marmocchi posso andare oppure no non vi metterete a piangere per la paura senza di me ci metteremo a piangere riescicò costia già pronto alle lacrime piangeremo piangeremo sicuramente intervenne anche nastia snocciolando in fretta le parole impaurita oh bambini bambini com'è pericolosa la vostra età niente da fare uccellini miei mi tocca farvi da balia non so per quanto tempo ancora e il tempo passa oh come passa ordinate a Perezvon di fare il morto chiese costia niente da fare dobbiamo ricorrere anche a Perezvon e si Perezvon e Colia cominciò a dare ordini al cane e quello eseguì tutto il suo repertorio era un cane orsuto delle dimensioni di un normale cane da guardia con un manto grigiastro dalle sfumature violacee era guerso all'occhio destro mentre all'orecchio sinistro aveva un taglio buaiva e saltava si metteva sull'attenti camminava sulle zampe posteriori si gettava sulla schiena con tutte e quattro le zampe all'aria e giaceva immobile come morto mentre eseguiva quest'ultimo numero si spalancò la porta e comparve sulla soglia a grafia la grassa serva della signora Krasotkina una donna butterata sulla quarantina di ritorno dal mercato con la sporta piena di provviste tenendo sospesa la sporta della spesa con il braccio sinistro si mise a fissare il cane colia sebbene sebbene avesse aspettato con ansia il suo ritorno non interruppe lo spettacolo e dopo aver lasciato per un certo tempo per Esvon nella posizione del morto finalmente gli fece un fischio il cane balzò in piedi e si mise a saltare per la gioia di aver eseguito il proprio dovere e pensare che è un cane osservò sentenziosamente a grafia tu femmina perché hai fatto ritardo le domandò minacciosamente Krasotkin femmina ma sentite un po' questo foruncolo foruncolo si foruncolo che te ne importa che ho fatto ritardo vuol dire che era necessario così se ho fatto ritardo robotò a grafia cominciando a darsi da fare accanto al forno ma con una voce niente affatto scontenta o risentita al contrario molto soddisfatta come se fosse contenta di avere l'occasione di motteggiare l'allegro padroncino ascolta vecchia sventata presi a dire Krasotkin alzandosi dal divano mi giuri su tutto ciò che di più sacro c'è al mondo e ancora su non so cos'altro che in mia assenza baderai a questi marmocchi senza lasciargli un attimo io devo uscire e perché dovrai giurartelo scoppiò a ridere a grafia gli guarderò lo stesso no non come faresti se avessi giurato sulla salvezza eterna della tua anima altrimenti non me ne vado e non te ne andare che me ne importa fuori c'è il gelo statene a casa marmocchi e Krasotkin si rivolse ai bambini questa donna rimarrà con voi sino al mio ritorno o al ritorno della vostra mamma perché anche lei avrebbe dovuto essere tornata da un pezzo soprattutto vi preparerà la colazione gli darei qualcosa vero a grafia questo lo posso fare addio uccellini miei me ne vado con il cuore leggero e tu nonnetta disse a bassa voce passando accanto ad agrafia spero che non gli racconterai le solite stupidaggini da femmine riguardo a caterina abbi pietà della loro età infantile e si per Esvon e tu va con dio grugnia grafia veramente arrabbiata questa volta ma non mi fa ridere ti ci vorrebbe una bella frustata per quello che hai detto lo scolaro ma colio ormai non la stava più a sentire finalmente poteva uscire uscendo dal portone si guardò attorno strinse le spalle e commentò che gelo andò dritto davanti a sé e poi svoltò a destra nel vicolo che portava alla piazza del mercato quando raggiunse la penultima casa prima della piazza egli si fermò presso un portone tirò fuori dal taschino un fischietto e fischò con tutto il fiato che aveva come se stesse dando un segnale convenuto non dovete aspettare neanche un minuto che dal cancelletto salto fuori verso di lui un ragazzino colorito sugli undici anni anche lui indossava un cappottino caldo lindo e persino elegante era Smurov un allievo della classe preparatoria Colia allora era due classi più avanti figlio di un agiato funzionario evidentemente i genitori gli avevano proibito di frequentare Krasotkin a causa della sua fama di monnellaccio temerario ecco perché Smurov era scattaiolato fuori alla chetichella questo Smurov se il lettore ben ricorda era uno di quei ragazzi che due mesi prima avevano preso a sassate Ilyusha che stava oltre il canale era stato lui a parlare di Ilyusha ad Alyosha Karamazov è un'ora che vi aspetto Krasotkin disse Smurov in tono risoluto e i ragazzi si avviarono verso la piazza ho fatto tardi rispose Krasotkin colpa delle circostanze non è che ti piccheranno che sei uscito con me ma che non mi piccano mai anche per Esfon viene con noi anche per Esfon portate anche lui là porto anche lui là ah se ci fosse Zueca impossibile Zueca non c'è più Zueca è scomparso nelle tenebre dell'ignoto ah e non potremmo far finta Smurov si fermò di colpo Ilyusha dice che anche Zueca era rissuto eppure grigio color fumo come per Esfon non si potrebbe dire che è lo stesso Zueca forse ci crederebbe ragazzo distegna la menzogna primo anche se fosse a fin di bene secondo e soprattutto spero che tu non abbia avvertito nessuno là del mio arrivo che Dio me ne scampi mi rendo conto di quello che faccio ma non riuscirai a consolarlo con Peretzfon sospirò Smurov sai che il padre quel capitano quello straccio di stoppa lì ci ha detto che oggi gli avrebbe portato un cucciolo un autentico mastino con il naso nero pensa così di consolare Ilyusha ma non lo credo possibile e come sta lui Ilyusha voglio dire ah male male penso che abbia la tisi è perfettamente cosciente solo che respira così respira a fatica altro giorno ha chiesto che gli infilassero gli stivali e lo accompagnassero a fare due passi ha tentato di camminare ma è caduto ha detto ah te l'avevo detto papà che quegli stivaletti non sono buoni anche prima facevo fatica a camminarci pensava che fosse colpa degli stivali se non si reggeva in piedi ma è per la debolezza non sopravviverà un'altra settimana Gersenstube lo va a visitare adesso sono di nuovo ricchi hanno un mucchio di soldi scelerati chi? i dottori tutta quella marmaglia di medici parlo in generale ma anche in particolare si intende io rifiuto la medicina è un'istituzione inutile del resto intendo approfondire la cosa ma che cos'è questo sentimentalismo che vi ha condotti tutti quanti là? tutta la classe non fa che stazionare lì mi sembra non tutta la classe saremo una decina ad andarci sempre tutti i giorni non c'è niente di strano in tutto questo mi stupisce il ruolo di Alexei Karamazov suo fratello sta per essere processato domani o dopodomani per un delitto di quella portata e lui ha tutto questo tempo da perdere in sentimentalismi con dei ragazzini qui non si tratta affatto di sentimentalismi anche tu adesso stai andando a fare la pace con Ilyusha fare la pace che espressione ridicola e poi io non permetto a nessuno di analizzare le mie azioni come sarà contento Ilyusha quando ti vedrà non si immagina nemmeno che tu possa andare a trovarlo perché? perché hai aspettato tanto tempo ad andare? domandò ad un tratto Smurov con slancio ragazzino questi sono fatti miei non tuoi ci vado per conto mio perché questa è la mia volontà invece a voi tutti è stato Alexei Karamazov a trascinarvi lì ecco la differenza e tu come fai a dirlo? può essere pure che io non vada affatto da lui per far la pace che espressione stupida non è stato Karamazov non è stato affatto lui i compagni hanno cominciato ad andare da lui di loro iniziativa certo da prima insieme a Karamazov non c'è niente di quello che dici tu nessuna stupidaggine prima c'è andato uno poi un altro il padre era contentissimo che noi andassimo a trovarlo sai se Elyusha muore lo impazzirà si rende conto che Elyusha sta per morire ed è così contento che noi abbiamo fatto pace con Elyusha Elyusha ha chiesto di te ma non ha mai aggiunto altro chiede e non dice una parola ma suo padre impazzirà o si impiccherà anche prima si comportava come un pazzo sai è un uomo per bene è stato tutto un equivoco è tutta colpa di quel parricida che lo picchiò quella volta eppure Karamazov è un enigma per me avrei potuto fare conoscenza con lui da un pezzo ma in certi casi mi piace stare sulle mie e poi di lui mi sono fatto un'idea che va ancora verificata e chiarita con gli attacque con aria grave anche Smurov Smurov si intende idolatrava Krasotkin e non avrebbe mai pensato di mettersi al suo stesso livello ora poi era molto incuriosito perché Colia aveva spiegato che ci andava per conto suo e dunque ci doveva essere un enigma nel fatto che Colia avesse deciso all'improvviso di andarci proprio oggi stavano attraversando la piazza del mercato vi sostavano molti carri provenienti dalla campagna e vi erano state portate grosse quantità di pollame le venditrici della città commerciavano in ciambelle ma tassine di filo e altre merci sotto i loro tendoni questi mercati domenicali da noi vengono ingenuamente chiamati fiere e nel corso di un anno si tengono parecchie di queste fiere Peretzvon correva di umore allegrissimo e deviava ora a destra ora a sinistra per annusare qualcosa quando incrociava altri cani si annusavano reciprocamente con straordinario piacere secondo tutte le regole canine mi piace osservare la vita reale Smurov esordì ad un tratto Colia hai notato che i cani quando si incontrano si annusano è una specie di legge naturale valida per tutti si ed è pure un po' ridicola ma non è ridicola hai torto nella natura non c'è nulla di ridicolo per quanto le cose possono sembrare ridicole all'uomo con i suoi pregiudizi se i cani potessero giudicare e criticare certamente troverebbero dal loro punto di vista altrettanto ridicole se non molto più ridicole le relazioni sociali fra gli uomini fra i loro padroni se non molto più ridicole questo lo ribadisco perché sono fermamente convinto che noi commettiamo molte più sciocchezze degli animali questa è un'idea di Rakitin un'idea notevole io sono socialista Smurov e che cos'è un socialista domandò Smurov è quando tutti sono uguali quando tutti condividono la proprietà non ci sono matrimoni e tutti scelgono la religione e le leggi che preferiscono come tutto il resto tu devi ancora crescere per questo è presto per te certo che fa un gran freddo sì 12 gradi sotto zero poco fa mio padre ha guardato il termometro e hai notato Smurov che nel cuore dell'inverno quando ci sono 15 e anche 18 gradi sotto zero non sembra così freddo come adesso per esempio che siamo agli inizi dell'inverno quando il gelo cala all'improvviso come oggi la temperatura scende a 12 gradi e per di più la neve è ancora poca significa che la gente non è ancora abituata per gli uomini è tutta questione di abitudine in tutto persino nei rapporti statali e politici l'abitudine è il motore principale guarda com'è ridicolo quel contadino Collia indicò un contadino di alta statura con un pellicciotto di montone e una faccia buonaria che stava in piedi presso il suo carro e per il freddo batteva le mani protette dalle manopole aveva la lunga barba biondiccia tutta coperta di ghiaccio la barba del contadino si è ghiacciata gridò Collia in tono motteggiatore mentre gli passava accanto a molti si è ghiacciata replicò il contadino in tono calmo e sentenzioso non lo stuzzicare osservò Smurov no lui non se la prende è buono addio Matuei addio ma che ti chiami Matuei si Matuei non lo sapevi non lo sapevo ho tirato a indovinare non mi dire sei uno scolaro vero si uno scolaro ti picchiano vero non c'è che dire a volte ti fanno male beh si che vita sospirò il contadino di tutto cuore addio Matuei addio è un caro ragazzo ecco che ti dico i ragazzi passarono oltre è un bravo contadino disse Collia a Smurov mi piace parlare con la gente del popolo e sono sempre contento di rendere loro giustizia perché gli hai mentito dicendo che ci picchiano domandò Smurov bisogna pur consolarlo che vuoi dire vedi Smurov a me non piace quando mi fanno un sacco di domande se non hanno capito al primo colpo certe volte non si può spiegare secondo i contadini gli scolari vengono picchiati e vanno picchiati che scolari sono se non vengono picchiati se io gli dico tutto ad un tratto che non ci picchiano quello ci resta male ma del resto tu non puoi capire occorre sapere parlare con il popolo solo non stuzzicarli per favore altrimenti viene fuori un'altra storia come quella dell'oca che hai paura non ridere colia io ho paura quanto è vero Dio mio padre andrebbe su tutte le furie mi ha severamente proibito di uscire con te non ti preoccupare questa volta non accadrà nulla salve Natascia gridò ad una venditrice del mercato che stava sotto il suo tendone ma che Natascia è Natascia io mi chiamo Maria rispose con voce stridula la venditrice una donna tutt'altro che anziana bello che ti chiami Maria addio e tu monellaccio sai ancora di latte e già ti fai i fatti degli altri vado di fretta non ho tempo di fermarmi con te me lo racconterai la prossima domenica colia agitò la mano proprio come se fosse stata lei ad attaccare il discorso e non lui e che cosa ti dovrai raccontare domenica prossima sei stato tu ad attaccare bottone non io sfacciato sbraitava Maria ti ci vorrebbe una bella frustata villano matricolata tra le venditrici delle bancarelle vicine si leva una sonora risata quando all'improvviso dal portico delle botteghe cittadine salto fuori come dal nulla un tipo su tutte le furie sembrava un commesso di negozio non uno di città ma forestiero con un caffettano azzurro a lunghe falde e un berretto a visiera era piuttosto giovane con i riccioli castani e la faccia lunga pallida butterata era in preda a una specie di agitazione instupidita e tutto un tratto si mise a vibrare minacciosamente col pugno contro colia ti conosco esclamava in tono iroso ti conosco poi allo fissò non riusciva a ricordare quando poteva aver attaccato briga con quell'uomo ma gli era capitato così spesso di attaccare briga per strada che gli era impossibile ricordare tutte le volte che lo aveva fatto ah sì gli domandò in tono ironico ti conosco ti conosco ripeteva il commesso come inebetito meglio per te beh non ho tempo di fermarmi addio ne stai combinando un'altra delle tue eh io ti conosco ne stai combinando un'altra delle tue vero quello che combino io non ti riguarda amico disse colia fermandosi e sempre guardandolo dritto negli occhi come non mi riguarda proprio così non ti riguarda e chi riguarda allora chi chi questo adesso riguarda trifon nicitiè e non te ma chi è questo trifon nicitiè il giovanotto fissava colia con uno stupore inebetito anche se continuava ad accalorarsi colia lo squadrò con aria grave sei stato all'ascensione gli domandò a bruciapelo con severa enfasi di quale ascensione parli a fare che no non ci sono andato il giovanotto rimase di stucco conosci sebanef incalzava con enfasi ancora più severa quale sebanef no non lo conosco allora va al diavolo tagliò corto colia e svoltando bruscamente a destra si avviò deciso per la sua strada come se gli ripugnasse parlare con un babbeo che non conosceva nemmeno sebanef e tu ehi tu fermati chi è sebanef il giovanotto si era ripreso dal suo sbandamento ed era agitato come prima ma di chi stava parlando e si rivolge di scatto alle venditrici con uno sguardo ebete le donne scoppiarono a ridere è un monellaccio bizzarro disse una di loro ma chi è questo sebanef continuava a domandare il giovanotto agitando la mano destra deve essere quel sebanef che lavorava dai kuzmiev deve essere quello suggerì una delle donne il giovanotto la fissò senza capire kuzmiev ripeteva un'altra donna ma non si chiama mica trifon quello è kuzma non trifon mentre il ragazzo ha detto trifon ni chi ti è quindi non è lui non è trifon né sebanef è eisov intervenne ad un tratto una terza donna che fino a quel momento non aveva aperto bocca ma aveva ascoltato seria seria si chiama alexei ivanov eisov alexei ivanovie è proprio così eisov confermò con aria sicura una quarta donna il giovanotto guardava al libito ora l'una ora l'altra ma perché mi ha chiesto se lo conoscevo perché me lo ha chiesto brava gente esclamava quasi disperato conosci sebanef e lo sai il diavolo chi è questo sebanef sai senza cervello ti dico che non è sebanef ma eisov alexei ivanovich eisov ecco chi è gli gridava una venditrice in tono persuasivo ma quale eisov chi è costui dillo se lo sai uno altro che veniva al mercato l'anno scorso e che ha a che fare questo eisov con me brava gente e noi che ne sappiamo che cosa ha a che fare lui con te intervenne un'altra lo dovresti sapere tu che cosa hai a che fare con lui se fai tanto chiasso stava parlando con te e non con noi stupido che non sei altro non lo conosci veramente chi eisov ma che il diavolo se lo pigli questo eisov eppure te con lui gli eredirò di santa ragione ecco che vi dico si è preso gioco di me le darai a eisov bada che non sia lui a dartele a te sei un imbecilla ecco cosa sei non a eisov non a eisov femmina perfida strega le darò a quel ragazzaccio prendetelo prendetelo si è preso gioco di me le donne ridevano a crepa pelle nel frattempo colia era ormai lontano e camminava con un'espressione di trionfo sul viso smurov procedeva al suo fianco e ogni tanto si girava a guardare il gruppo schiamazzante la situazione lo divertiva molto anche se aveva sempre paura di essere coinvolto in qualche guaio insieme a colia di quale seban è stavi parlando domandò a colia già prevedendo la risposta che vuoi che ne sappia io adesso avranno da strepitare fino a sera mi piace stuzzicare gli imbecilli di tutti gli strati sociali ecco un altro babbeo quel contadino lì nota bene si dice che non c'è nessuno più stupido di un francese stupido ma anche la fisionomia russa non è da meno non gli sta scritto in faccia a quello lì che è un imbecille guarda quel contadino lì lascia lo stare colia andiamo avanti non lo lascio per nulla al mondo ormai ho deciso ehi salve contadino il florido contadino che stava passando lentamente accanto a loro e che doveva aver già bevuto con un faccione semplice che paffuto e una barba brizzolata sollevò il capo e guardò il ragazzino salve se non stai scherzando gli rispose senza fretta e se stessi scherzando scoppiò a ridere colia se stai scherzando scherza pure che dio sia con te che si posso fare non c'è niente di male a scherzare chiedo scusa amico stavo scherzando beh dio ti perdonerà e tu mi perdoni certo che ti perdono va pure mi sembra proprio che tu sia un contadino intelligente più intelligente di te rispose il contadino inaspettatamente e con la stessa aria grave di prima non credo disse colia leggermente stupito è sicuro che è così forse è così è così addio contadino addio i contadini sono molto diversi fra loro commentò colia dopo una pausa di silenzio come facevo a sapere che mi sarei imbattuto in uno intelligente sono sempre disposto a riconoscere l'intelligenza nel popolo io in lontananza l'orologio della cattedrale batte le undici e mezza i ragazzi si affrettarono e per tutto il tragitto ancora piuttosto lungo che portava all'abitazione del capitano in seconda Snagirev camminarono a passo sostenuto e quasi senza scambiarsi una parola a una dozzina di passi dalla casa colia si fermò e ordinò a Smurov di andare avanti a chiamargli Karamazov dobbiamo prima annusarci a vicenda spiegò a Smurov ma perché chiamarlo qua fuori fece per ribattere Smurov entra tu saranno felicissimi della tua visita che senso ha fare conoscenza al gelo lo so io perché mi serve vederlo qui al gelo taglio corto dispoticamente colia come amava molto fare con i piccoli e Smurov corse ad eseguire l'incarico Zueca colia si appoggiò allo steccato con un'espressione grave e cominciò ad aspettare la comparsa di Agiosha sì era da un pezzo che aveva voglia di conoscerlo aveva sentito parlare molto di lui dai ragazzi ma fino ad allora aveva sempre manifestato una sprezzante indifferenza quando se ne parlava aveva persino criticato Agiosha ascoltando quello che gli riferivano di lui ma dentro di sé avvertiva un forte fortissimo desiderio di conoscerlo c'era qualcosa in tutti quei racconti su Agiosha che lo attraeva e suscitava simpatia in lui quello era un momento importante in primo luogo occorreva salvare la faccia dimostrare la propria indipendenza altrimenti penserà che ho 13 anni e mi prenderà per un ragazzino come quegli altri e che cosa rappresentano quei ragazzi per lui io lo domanderò quando lo conoscerò meglio è un peccato che io sia così basso però Tuzikov è più giovane di me eppure mi supera di mezza testa in compenso ho una faccia intelligente non sono bello questo lo so so di essere ripugnante di viso ma ho una faccia intelligente poi non devo lasciarmi andare quando parlo altrimenti si comincia subito con gli abbracci e lui penserà sarebbe abominevole se pensasse tali erano i pensieri che agitavano Colia mentre tentava con tutte le sue forze di assumere l'aria più indipendente possibile soprattutto lo tormentava la sua bassa statura non tanto il suo viso ripugnante quanto la statura a casa e in un angolo della parete c'era fin dall'anno prima il segno a matita con il quale aveva preso nota della propria altezza e da allora ogni due mesi egli si avvicinava trepidante a quel segno per misurarsi di quanto era riuscito a crescere nel frattempo ma ahimè cresceva terribilmente a rilento e questo a volte lo conduceva sull'orlo della disperazione quanto al suo viso era tutt'altro che ripugnante al contrario era abbastanza grazioso così bianco pallidino con le lentigini gli occhietti grigi non grandi ma vivaci avevano uno sguardo fiero e si infiammavano spesso di emozione gli zigomi erano piuttosto larghi le labbra piccole non molto carnose ma molto rosse il naso era minuto e decisamente all'insù è proprio rincagnato proprio rincagnato borbotava Coglia tra sé e sé quando si guardava allo specchio e si allontanava sempre sdegnato da quello specchio ma è davvero una faccia intelligente la mia si ritrovava a pensare alle volte dubitando persino di quello del resto non bisogna pensare che la preoccupazione sul viso all'altezza assorbisse tutta la sua anima al contrario per quanto fossero amari quei momenti allo specchio egli se ne dimenticava subito e persino per un bel pezzo e continuava a dedicarsi completamente alle idee e alla realtà della vita come egli stesso definiva la propria attività ben presto comparve agli oscia che si affrettava verso Coglia prima ancora che lo raggiungesse Coglia aveva visto che il viso di agli oscia aveva un'espressione gioiosa ma sarà davvero così contento di vedermi pensò con piacere Coglia a questo punto noteremo che agli oscia era molto cambiato da quando l'abbiamo lasciato aveva smesso l'abito talare adesso indossava una finanziaria di ottima fattura un morbido berretto rotondo e portava i capelli tagliati corti tutti questi cambiamenti avevano di molto migliorato il suo aspetto sembrava proprio un bel ragazzo adesso il suo bel viso aveva sempre un'aria allegra ma questa allegria aveva un non so che di cheto e tranquillo con gran meraviglia di Coglia agli oscia era uscito così come si trovava in casa senza cappotto evidentemente si era affrettato egli tese la mano a Coglia ecco anche voi finalmente vi abbiamo tanto aspettato tutti quanti c'erano dei motivi dei quali vi informerò subito in ogni caso sono contento di conoscervi era tempo che aspettavo questa occasione e ho sentito molto parlare di voi mormorò Coglia con il fiato un po' corto ci saremmo comunque conosciuti anche io ho molto sentito parlare di voi ma qui ci avete messo molto tempo a venire qui ditemi come vanno le cose igliuscia sta molto male sicuramente morirà ma che dite dovete convenire che la medicina è una truffa Karamazov esclamò Coglia con trasporto igliuscia ha parlato di voi molte molte volte persino sapete persino nel sonno nel delirio si vede che gli eravate molto molto caro prima di quel fatto con il temperino e poi c'è un altro motivo ditemi è vostro questo cane è mio si chiama Perezvon e non è Zueca Agliuscia guardò Coglia negli occhi con un'espressione piena di compassione quello è proprio sparito nel nulla so che tutti vorreste che fosse Zueca ho sentito tutto e Coglia sorrise con un'aria enigmatica ascoltate Karamazov vi spiegherò ogni cosa per questo sono venuto e per questo vi ho fatto chiamare per spiegarvi l'intero episodio prima di entrare presa a dire animato vedete Karamazov Ilyusha è entrato nella classe preparatoria in primavera beh si sa come sono da noi le classi preparatorie tutti ragazzini mocciosi cominciarono subito a stuzzicarlo io sono due classi più avanti si intende guardavo il tutto da lontano restando in disparte vedevo che il ragazzo era piccolo deboluccio ma non si sottometteva si prendeva persino a botte con loro tutto orgoglioso con gli occhetti in fiamme mi piacciono molto i tipi così ma quelli lo trattavano ancora peggio il peggio era che allora aveva un orribile capottuccio dei pantaloncini che gli andavano corti e gli stivaletti con i buchi e quelli lo stuzzicavano pure per questo lo umiliavano no io queste cose non le sopporto intervenni immediatamente e detti loro una bella strapazzata io li picchio e quelli mi adorano lo sapevate questo Karamazov si vantò impulsivamente colia e poi in generale i mociosi mi piacciono anche a casa ho sul groppone due uccellini che oggi mi hanno persino fatto fare tardi così smisero di picchiare gli uscia e io lo presi sotto la mia protezione vedevo che era un ragazzino orgoglioso ve l'ho già detto che è orgoglioso ma andò a finire che divenne servilmente devoto nei miei confronti eseguiva tutti i miei ordini mi stava ad ascoltare come se fossi dio in terra cercava di emularmi durante gli intervalli fra le lezioni correva sempre da me e ce ne andavamo insieme e anche di domenica da noi a scuola ridono quando un ragazzo grande stringe amicizia con uno più piccolo ma è solo un pregiudizio mi andava di fare così e basta non è giusto? insegnavo lo facevo crescere perché non avrei dovuto farlo se mi piaceva? ecco voi per esempio Karamazov frequentate tutti quei piccoletti vuol dire che volete influenzare la giovane generazione volete aiutarla a crescere a essere utile e devo ammettere che questo lato del vostro carattere nel quale sono venuto a conoscenza per sentito dire è quello che mi ha interessato di più in voi ma passiamo ai fatti mi accorgevo che nel ragazzo si stava sviluppando una certa sensibilità una vena sentimentale mentre io vedete sono sempre stato contrario a queste smancerie sin dalla nascita c'erano pure delle contraddizioni in lui era orgoglioso ma servilmente devoto nei miei confronti servilmente devoto ma poi a volte gli lampeggiavano gli occhietti e non voleva mai darmi ragione litigava usciva dai gangheri certe volte gli esponevo delle idee non che fosse contrario a quelle idee ma mi accorsevo semplicemente che era in rivolta contro di me perché alle sue tenerezze io rispondevo con la freddezza e così al fine di addestrarlo nella maniera giusta più tenero diventava lui più freddo mi facevo io non facevo apposta ero convinto di agire per il meglio intendevo forgiare il suo carattere smussarlo farne un uomo insomma voi mi capite al volo credo all'improvviso notai che per un giorno e poi un altro e poi un terzo egli era turbato triste ma non per le tenerezze per qualcos'altro di più grave di superiore mi domandavo ma che tragedia sarà mai questa lo costrinse a parlare e venne a scoprire di che si trattava e in qualche modo egli aveva fatto conoscenza con Smerdiakov il lachè del vostro defunto padre che a quel tempo era ancora fra i vivi e quello imbecille gli aveva insegnato uno stupido scherzo uno scherzo cattivo brutale prendere un pezzetto di pane la mollica del pane infilarci dentro uno spillo e gettarlo a qualche cane da cortile di quelli che per fame ingoiano tutto senza masticare e stare a vedere che cosa succede così prepararono un pezzo di pane in quella maniera e lo gettarono proprio a Zueca quel cane irsuto sul quale si fa tanto chiasso adesso un cane da guardia di una casa dove semplicemente non gli davano mai da mangiare e il cane non faceva che abbaiare tutto il giorno a voi piace questo stupido abbaiare Karamazov io non lo sopporto e così il cane si precipitò sul pezzo di pane lo ingoiò e cominciò a guaiire a roteare a correre correva e guaiiva e poi scomparve è stato Iliusa stesso a raccontarmelo mi confessò questo e mentre lo faceva piangeva piangeva mi abbracciava tremava correva e guaiiva correva e guaiiva non faceva che ripetere questa immagine gli era rimasta molto impressa vedevo che era sopraffatto dai rimorsi di coscienza io la presi seriamente volevo soprattutto dargli una lezione anche per le altre cose che aveva combinato in passato e così lo confesso feci il furbo e finsi di essere molto più indignato di quello che ero veramente tu hai commesso un'azione abietta sei un mascalzone io certo non lo dirò a nessuno ma per il momento non voglio avere più niente a che fare con te si penserò su e ti farò sapere attraverso Smurov quello stesso ragazzo che è venuto con me adesso e che mi è sempre stato devoto se in futuro vorrò avere a che fare con te o se ti lascerò perdere per sempre come si fa con i mascalzoni questo lo impressionò terribilmente devo confessare che sin da allora intuì di essere stato troppo severo con lui ma che farci quella era la mia idea allora e il giorno dopo gli mandai Smurov con il messaggio che non gli avrei mai più rivolto la parola noi diciamo così quando due compagni rompono ogni rapporto di amicizia il segreto era che volevo tenerlo al bando per qualche giorno e poi preso atto del suo pentimento tendergli di nuovo la mano era mia ferma intenzione fare così e invece lui pensate un po' dopo aver sentito il messaggio di Smurov gli scintillarono gli occhi riferisci a Krasotkin da parte mia gridò che da adesso in poi getterò i pezzi di pane con gli spilli a tutti i cani a tutti a tutti serietta di sommossa vediamo di soffiarla via pensai e cominciai a trattarlo con profondo disprezzo ogni volta che lo incontravo mi giravo dall'altra parte o sorridevo ironicamente quando all'improvviso avvenne l'episodio del padre vi ricordate quello dello straccio di stoppa capite che allora egli si trovava già predisposto all'esasperazione i ragazzi vedendo che io lo avevo abbandonato si scagliarono contro di lui e lo schernivano straccio straccio di stoppa e così ebbero inizio le loro scaramucce per le quali nutro un grande rammarico perché pare che una volta lo abbiano colpito davvero forte una volta lui si gettò solo contro tutti all'uscita da scuola e io quel giorno stavo a una decina di passi di distanza e lo guardavo e lo giuro non ricordo di aver riso al contrario provai una tale pena per lui che poco mancò non prendessi le sue difese ma lui ad un tratto incrociò il mio sguardo non so che cosa gli passò per la mente ma estrasse il temperino si scagliò contro di me e mi ferì alla coscia qui sulla gamba destra io non mi mossi non esito a dire che a volte sono molto coraggioso caramanzo mi limitai a guardarlo con disprezzo come a dirgli questo è il ringraziamento per tutta la mia amicizia fallo ancora se ti va sono a tua disposizione ma lui non mi colpì un'altra volta crollò si spaventò lui stesso gettò il temperino scoppiò a piangere e scappò via io chiaramente non feci la spia e ordinai a tutti di tenere la bocca chiusa che la voce non arrivasse ai superiori non lo dissi nemmeno a mia madre finché la ferita non fu guarita e poi era una cosa da nulla un graffietto poi venne a sapere che quello stesso giorno si era preso a sassate con i compagni e vi aveva morso un dito ma capita in quale stato si trovava ma che fare mi comportai da stupido quando si ammalò non andai a perdonarlo cioè a fare la pace con lui e adesso me ne pento ma a questo punto sono sorte ragioni particolari e così adesso sapete tutta la storia solo che credo di aver agito stupidamente ah che peccato esclamò agli oscia emozionato che non abbia saputo prima dei vostri rapporti altrimenti sarei venuto di persona da voi a chiedervi di venire a trovarlo insieme a me ci credete che con la febbre nel delirio egli parlava di voi io non sapevo nemmeno quanto gli foste caro ma veramente non siete riusciti a trovare quel cane Zueca il padre e tutti i ragazzi lo hanno cercato per tutta la città ci credete che è malato fra le lacrime tre volte mia presenza ripetuto al padre è stato per quello che mi sono ammalato papà perché ho ucciso Zueca Dio mi ha punito per questo non riesce a levarsi quel pensiero dalla testa e se solo si potesse trovare quello Zueca adesso egli si dimostrasse che non è morto ma che è vivo forse risusciterebbe per la gioia noi tutti abbiamo riposto le nostre speranze in voi dite che cosa vi ha indotto a sperare che avrei trovato Zueca cioè che sarei stato proprio io a ritrovarlo domando a Colia estremamente incuriosito perché avete fatto affidamento proprio su di me e non su di un altro direva voce che voi stavate conducendo delle ricerche e che una volta trovato il cane lo avreste riportato Smurov ha detto qualcosa del genere noi soprattutto reggiorato le cose e ditemi ancora Karamazov che tipo è suo padre io lo conosco ma datemi una vostra definizione un buffone un pagliaccio o no ci sono uomini dalla profonda sensibilità ma che sono in qualche modo oppressi la buffoneria in loro è una forma di ironia piena di rancore contro coloro ai quali non osano dire la verità per un'inveterata e umiliante timidezza nei loro confronti credete Krasotkin che questo tipo di buffoneria è estremamente tragica alle volte adesso tutta la sua vita tutto quello che ha al mondo si è concentrato in Ilyusha e se Ilyusha morisse egli impazzirebbe oppure si toglierebbe la vita sono quasi convinto di questo quando lo guardo adesso io vi capisco Karamazov voi conoscete la natura umana soggiunse Kolia con sentimento quando vi ho visto con quel cane ho pensato subito che aveste riportato Zueca aspettate Karamazov forse facciamo ancora in tempo a ritrovarlo ma quello quello è per Zetfon adesso lo farò entrare in casa e forse farò divertire Ilyusha più che con il cucciolo di Mastino aspettate Karamazov tra poco scoprirete una cosa ma io vi sto trattenendo gridò Kolia ad un tratto avete soltanto la giacca addosso con questo freddo vi sto trattenendo vedete vedete come sono egoista siamo tutti egoisti Karamazov non vi preoccupate è vero fa freddo ma io non mi raffreddo facilmente andiamo però a proposito come vi chiamate conosco soltanto il vostro nome Kolia e poi Nicolai Nicolai Ivanovich Krasotkin oppure come scrivono nei documenti ufficiali figlio di Krasotkin Kolia rise per qualche motivo ma ad un tratto soggiunse io ovviamente odio il mio nome Nicolai e perché è banale ordinario avete tredici anni domandò Agiosha no quattordici cioè tra due settimane compio quattordici anni tra pochissimo vi confesserò in anticipo una mia debolezza Karamazov soltanto a voi dal momento che è il nostro primo incontro in modo che possiate capire in un attimo la mia natura io detesto quando mi domandano l'età e detesto è dire poco in fin dei conti per esempio gira una calunnia sul mio conto dicono che la settimana scorsa abbia giocato ai banditi con i ragazzini della classe preparatoria che ho giocato è vero ma che l'abbia giocato per me stesso per mio proprio divertimento questa è decisamente una calunnia ho fondato i motivi di credere che questa calunnia sia giunta anche al vostro orecchio ma io non ho giocato per me stesso ma per quei mocciosi perché senza di me non riuscivano a combinare niente di buono ma da noi si dà sempre credito alle assurdità questa città è pettegola ve lo assicuro e anche se avreste giocato per divertirvi che ci sarebbe stato di male per divertirmi perché voi vi mettereste a giocare a cavalluccio ma mettetela in questo modo sorrisi agli oscia a teatro ci vanno pure gli adulti eppure a teatro si rappresentano le avventure di eroi di ogni genere a volte anche di banditi o scene di guerra non è forse la stessa cosa in un'altra forma si intende e giocare fra ragazzi alla guerra o ai banditi durante la ricreazione è anche quella arte seppure nella sua prima fase di sviluppo è espressione di una nascente esigenza di arte nell'anima dei giovani e questi giochi a volte riescono molto meglio delle rappresentazioni teatrali la differenza sta solo nel fatto che a teatro si va a guardare degli attori mentre nei giochi sono i ragazzi stessi a recitare ma questo è del tutto naturale la pensate così? è questa la vostra convinzione? Coglia lo guardava fisso sapete avete espresso un pensiero piuttosto interessante quando torno a casa farò lavorare il mio cervello a questo proposito ammetto che mi aspettavo di poter imparare qualcosa da voi sono venuto a studiare da voi Karamazov concluse Coglia con voce vibrante di affettuoso sentimento e io da voi sorrise Agliosha stringendogli la mano Coglia era rimasto estremamente soddisfatto di Agliosha lo colpiva di potersi sentire con lui su un piano di perfetta parità e che quello gli parlava come un adulto adesso vi mostrerò una prudezza Karamazov diciamo una rappresentazione teatrale erise nervosamente sono venuto proprio per questo passiamo prima a sinistra dai padroni di casa dove tutti i vostri compagni lasciano il cappotto perché nella stanza si sta stretti e fa caldo ma io ci starò soltanto un attimo mi terrò il cappotto addosso Peretzvon starà qui nell'andito e farà il morto e sì Peretzvon a cuccia e zitto vedete fa il morto io prima entrerò a dare uno sguardo alla situazione poi al momento opportuno farò un fischio sì Peretzvon e vedrete che quello correrà dentro come una saetta solo che Smurov non deve dimenticare di aprire la porta in quel momento darò disposizioni e poi vedrete che prudezza al lettuccio di Ljusha la camera già nota al lettore in cui abitava la famiglia del capitano a riposo Snegerev che già conosciamo in quel momento era soffocante e stretta per la quantità del pubblico affluito erano parecchi i ragazzi in visita a Ljusha quella volta e sebbene tutti fossero pronti a negare come aveva fatto Smurov che fosse stato a Ljusha a riconciliarli con Ljusha e a condurli da lui di fatto le cose erano andate proprio così tutta la sua abilità era stata quella di ricongiungergli ad Ljusha uno dopo l'altro senza tante smancerie ma come se fosse stata una cosa naturale e casuale questo aveva enormemente alleviato la sofferenza di Ljusha egli era stato molto commosso nel vedere quelle prove quasi tenere di amicizia e quell'interessamento verso di lui da parte dei suoi nemici di un tempo tuttavia mancava soltanto Krasotkin e quell'assenza gravava sul cuore di Ljusha come un peso tremendo se c'era un ricordo più amaro di tutti negli amari ricordi di Ljusha quello era proprio l'episodio di Krasotkin il suo unico amico e difensore di un tempo che egli aveva aggredito con il temperino così la pensava anche Smurov ragazzino davvero perspicace era stato il primo a riconciliarsi con Ljusha ma lo stesso Krasotkin quando Smurov aveva accennato alla lontana che a Ljusha voleva andare a trovarlo per via di una certa faccenda aveva subito interrotto e bloccato l'approccio incaricando Smurov di riferire immediatamente a Karamazov che sapeva da solo quello che doveva fare che non chiedeva consigli a nessuno e che avrebbe scelto lui quando recarsi dal malato perché aveva le sue ragioni questo era avvenuto un paio di settimane prima di quella domenica ecco perché a Ljusha non era andato da lui come si era proposto di fare anche se a Ljusha aveva deciso di aspettare aveva mandato Smurov da Krasotkin ancora due volte ma entrambe le volte Krasotkin lo aveva respinto con il rifiuto più insofferente e categorico mandando a dire a Ljusha che se fosse venuto di persona lui da Ljusha non si sarebbe andato mai e che non voleva essere più scocciato fino all'ultimo momento lo stesso Smurov non aveva saputo che Kolia avesse deciso di andare da Ljusha quella mattina soltanto la sera prima salutandolo Kolia aveva chiesto Smurov a Bruciapelo che lo aspettasse in casa l'indomani mattina per andare insieme dalla famiglia Znegirev ma che non si azzardasse a informare nessuno della sua visita perché voleva piombare lì come per caso Smurov aveva ubbidito la fantasticheria che Kolia avrebbe riportato Zueca scomparso era sorta in Smurov sulla base di alcune parole gettate lì di sfuggita da Krasotkin e cioè che erano tutti asini se non riuscivano a trovare un cane ammesso che fosse vivo quando poi Smurov pronto a cogliere l'occasione al volo gli aveva accennato timidamente alla sua congettura circa il cane di Krasotkin quello si era alterato moltissimo ma che sono un asino a mettermi a cercare i cani degli altri per tutta la città quando il mio Preltsvof è come si può pensare che un cane possa sopravvivere dopo aver incoiato uno spillo sono tutte smancerie niente di più intanto erano già due settimane che gli uscia non lasciava il suo lettuccio nell'angolo sotto le icone la scuola non ci andava dal giorno in cui si era scontrato con agli oscia e gli aveva morso il dito del resto subito quel giorno era caduto malato anche se un mese prima era ancora in grado di tanto in tanto di alzarsi e fare due passi nella camera sino all'andito negli ultimi tempi si era molto indebolito invece tanto che senza l'aiuto del padre non riusciva a muoversi il padre era molto preoccupato per lui aveva smesso di bere quasi completamente era quasi impazzito per la paura che il ragazzo potesse morire e spesso soprattutto dopo averlo accompagnato sotto braccio a fare il giro della stanza e averlo riportato a letto correva in un angolo buio dell'andito e con la fronte poggiata al muro scoppiava in crisi di pianto di rotto cercando di soffocare i singhiozzi per non farsi sentire dagli uscienca quando tornava nella stanza di solito si metteva a fare qualcosa per divertire e confortare il suo caro ragazzo gli raccontava delle favole delle storielle ridicole oppure faceva le imitazioni di persone strane che gli capitava di incontrare oppure faceva il verso degli animali con i loro ulilati e i loro strepiti buffi ma gli usa non sopportava che suo padre facesse il pagliaccio e si rendesse ridicolo anche se il ragazzo si sforzava di non fargli capire che non gli piaceva quel modo di fare comunque si rendeva conto con il cuore addolorato che suo padre veniva umiliato in società e costante gli ritornava alla mente il ricordo dello straccio di stoppa e di quel terribile giorno neanche a Ninoetska la mite quieta sorella di Ljushenka dalle gambe paralizzate piaceva quando il padre si rendeva ridicolo quanto a Varvara Nikolaevna era andata da un pezzo a Pietroburgo per seguire le lezioni all'università invece la madre mezza demente si divertiva molto e rideva di tutto cuore quando suo marito per esempio cominciava a rappresentare qualcosa oppure a gesticolare in modo ridicolo era l'unico modo di consolarla per il resto non faceva che brontolare e lamentarsi che tutti si erano dimenticati di lei che nessuno la rispettava che la offendevano e così via ma negli ultimi giorni anche in lei era sopraggiunto a una sorta di mutamento spesso cominciava a guardare in direzione del cantuccio di Ljusha e a farsi pensierosa si era fatta molto più taciturna si era calmata e se si metteva a piangere cercava di farlo sottovoce per non farsi sentire il capitano aveva notato questo suo mutamento con amara perplessità sulle prime le visite dei ragazzi non le facevano piacere anzi la irritavano ma poi i gridolini allegri ai racconti di quei bambini cominciarono a divertirla e finì per gradire quelle visite a tal punto che se i ragazzi avessero smesso di venire ne avrebbe terribilmente sentito la mancanza quando i bambini raccontavano qualcosa oppure si mettevano a giocare lei rideva e batteva le manine a volte ne chiamava qualcuno a sé e lo baciava voleva bene soprattutto al piccolo Smurov quanto al capitano la comparsa in casa sua di quei bambini che venivano per fare stare allegro Ljusha aveva riempito fin dall'inizio il suo cuore di una gioia estatica e persino della speranza che Ljusha avrebbe cessato di essere triste e forse sarebbe presto guarito per questo neanche per un minuto fino all'ultimo momento egli dubitò malgrado la gran paura che aveva per Ljusha che il ragazzo dovesse all'improvviso guarire accoglieva i piccoli ospiti con venerazione andava da loro si metteva a loro disposizione sarebbe stato disposto a portarli a cavalluccio anzi una volta stava persino per farlo sul serio ma a Ljusha questi giochi non piacquero e quindi furono abbandonati cominciò a comprare loro regalucci dolcetti di marzapane noci offriva il tè e imburrava tartine bisogna notare che in tutto quel periodo il denaro non gli mancava egli aveva accettato i 200 rubli di Caterina Ivanovna esattamente come aveva previsto agli Osha e in seguito quando Caterina Ivanovna aveva appreso maggiori dettagli sulle condizioni e la malattia di Ljusha era andata di persona a far loro visita aveva conosciuto tutta la famiglia ed era perfino riuscita ad affascinare la moglie mezza demente del capitano da quel momento la sua mano non lesinò mai e lo stesso capitano oppresso dal terrore che il suo ragazzo potesse morire aveva messo da parte il suo iniziale senso dell'onore e ora accettava umilmente le sue elargizioni per tutto quel periodo il dottor Gersen Stube dietro invito di Caterina Ivanovna si recava continuamente e puntualmente dal malato un giorno sì e l'altro no ma con scarsi risultati si limitava a rimpinzarlo di medicina e sino all'inverosimile quel giorno però cioè quella domenica mattina a casa del capitano si attendeva l'arrivo di un nuovo dottore proveniente da Mosca e che a Mosca passava per un luminare Caterina Ivanovna lo aveva convocato da Mosca con notevole spesa non espressamente per Giuscia ma per un altro suo scopo del quale parleremo in seguito a tempo debito ma dal momento che gli veniva in città lo aveva pregato di visitare anche Giusenka e il capitano era stato avvertito in anticipo di quella visita invece dell'arrivo di Koli a Krasotkin il capitano non aveva alcun sentore sebbene desiderasse da tempo che venisse finalmente il ragazzo per il quale si tormentava tanto Giuscia nel momento in cui Krasotkin aprì la porta e comparve nella stanza tutti il capitano e i ragazzi erano accalcati intorno al lettuccio del malato ad osservare il cucciolo di mastino che il padre aveva appena portato era nato solo il giorno prima ma il capitano lo aveva ordinato già da una settimana per il divertimento e il conforto di Giusenka che rimpiangeva da scomparsa e certo ormai la morte di Zueca Giuscia però che sapeva già da tre giorni che gli avrebbero regalato un cucciolo e non uno qualsiasi ma un autentico mastino in che ovviamente era molto importante tentava per fine delicatezza di mostrarsi contento del regalo ma tutti sia i ragazzi sia il padre vedevano chiaramente che il nuovo cane non era servito ad altro che a ravvivare nel suo cuore il ricordo dell'infelice Zueca da lui tormentato il cuccioletto giaceva accanto a lui e si muoveva appena appena mentre il ragazzo con un mesto sorriso lo accarezzava con la sua manina magra magra palliduccia scarnita si vedeva persino che il cagnolino gli piaceva ma Zueca non c'era più comunque non era Zueca e se ci fosse stato Zueca insieme a quel cagnolino allora sarebbe stata la felicità perfetta Krasotkin gridò ad un tratto uno dei ragazzi il primo che lo aveva visto entrare nella stanza la comparsa di Krasotkin suscitò l'agitazione generale i ragazzi si fecero da parte ai due lati del lettuccio in modo da scoprire di colpo l'intera figura di Yushenka il capitano si precipitò di slancio incontro a Colia prego prego carissimo ospite cominciò a far fugliare Yushenka il signor Krasotkin è venuto a trovarti ma Krasotkin dopo essersi affrettato a stringergli la mano dette subito prova anche della sua perfetta padronanza delle buone maniere prima di tutto si rivolse alla moglie del capitano seduta nella sua poltrona la quale come farlo apposta era di umore scontento e si lamentava per il fatto che i ragazzi accalcandosi intorno al lettuccio di Yushenka le impedivano di vedere il cagnolino nuovo e le fece un inchino molto cortese scalpicciando i piedi poi voltandosi verso Nino Etke fece anche a lei il suo inchino come a una vera signora questo gesto di gentilezza fece un enorme piacere alla donna malata ecco un giovanotto che è stato educato come si deve osservò ad alta voce allargando le braccia non come quegli altri nostri ospiti che arrivano uno in groppa all'altro che vuoi dire mammina con uno in groppa all'altro come sarebbe a dire farfugliò il capitano in tono gentile ma un poco intimorito a causa del comportamento della mammina entrano così salgono uno sulle spalle dell'altro nell'andito ed entrano così in casa di una famiglia onorata a cavalcioni che razza di ospiti sono ma chi chi è entrato in questo modo mammina ecco quel ragazzo è entrato a cavallo di quell'altro oggi e quello invece su colia si trovava già accanto al lettuccio di luscia il malattore visibilmente impallidito si era sollevato sul lettino e guardava colia dritto dritto negli occhi erano passati già un paio di mesi da quando aveva visto il suo piccolo amico di un tempo per l'ultima volta e ora rimase completamente di sasso davanti a lui non avrebbe mai immaginato di vedere quel visetto così smagrito e ingiallito con gli occhi così ardenti per la febbre e quasi ingigantiti oltre misura quelle manine così magre con amaro stupore egli si accorse del respiro rapido e affannato di luscia e delle sue labbra rinsecchite egli si accostò al malato tese la mano e quasi smarrito disse beh vecchio mio come va ma la voce gli venne meno il tono disinvolto non resse il suo viso fu attraversato da una improvvisa contrazione e le sue labbra ebbero un fremito e gli uscia gli uscia gli sorrideva penosamente ancora incapace di proferire parola colia all'improvviso sollevò il braccio e passò la mano fra i capelli di gli uscia in un gesto istintivo non è niente balbettò a bassa voce forse per consolarlo o forse senza sapere neanche lui perché lo dicesse rimasero in silenzio ancora per un minuto che cos'hai qui un nuovo cucciolo domandò di punto in bianco colia con la voce più fredda possibile sì rispose gli uscia con un lungo sussurro affannato ha il muso nero vuol dire che sarà feroce un cane da catena osservò colia con aria grave e decisa come se il cane e il suo muso nero fossero la cosa più importante in quel momento ma in realtà egli cercava di combattere con tutte le forze contro i propri sentimenti per non scoppiare a piangere come un piccolo eppure non riusciva a dominarsi quando crescerà vi toccherà mettergli una catena lo sodà oh diventerà enorme esclamò un ragazzino si sa che i mastini diventano enormi grossi così grossi come vitelli si levarono da più parti alcune vocine come vitelli come veri vitelli intervenne anche il capitano ho cercato di proposito uno come quello il più feroce di tutti e anche i suoi genitori erano enormi e ferocissimi ecco altissimo qui sedetevi signore qui sul lettino di Giuscia oppure qui sulla panca benvenuto ospite carissimo atteso così a lungo siete stato così gentile da venire con Alexei Fiodorovic Casotkin si sedete sul bordo del lettino ai piedi di Giuscia sebbene forse strada facendo si fosse preparato uno spunto per introdurre disinvoltamente l'argomento adesso aveva davvero perso il filo no sono venuto con Perezvon adesso ho un cane che si chiama così Perezvon un nome slavo è fuori che aspetta se fischio corre subito dentro così anche io ho un cane e si rivolge di scatto a Giuscia ti ricordi Zueca vecchio mio? gli sparò questa domanda a bruciapelo il visetto di Giusenka ebbe un fremito e gli guardò a Kolia con un'espressione di sofferenza a Giuscia che stava in piedi presso la porta aggrottò le sopracciglia e fece di nascosto un segno a Kolia per dissuaderlo dal parlare di Zueca ma quello non se ne accorse o fece finta di non accorgersene dov'è Zueca? domandò il Giuscia con voce rotta beh fratello il tuo Giuscia è sparito scomparso per sempre il Giuscia tacque ma guardò ancora una volta Kolia fisso negli occhi agli osci accogliendo lo sguardo di Kolia tentò un'altra volta di ammonirlo ma quello distorse ancora gli occhi facendo finta di non essersene accorto nemmeno questa volta è scappato da qualche parte e avrà tirato le cuoia come non tirare le cuoia dopo un tale bocconcino infieriva spietatamente Kolia e nel frattempo anche lui cominciava chissà perché a respirare a fatica però io prezzo un nome slavo te l'ho portato qui non importa disse Giuscia all'improvviso no no importa devi assolutamente dargli un'occhiata ti divertirai l'ho portato qui apposta ha lo stesso pelo di quell'altro voi mi permettete signora di chiamare il mio cane e si rivolse di scatto alla signora signora Ghiriva in preda una inesplicabile citazione non importa non importa esclamò Giuscia con dolosa lacerazione nella voce un'espressione di rimprovero gli infiammava gli occhi forse signore il capitano scattò in piedi dal baule accanto alla parete sulla quale era seduto forse signore un'altra volta farfugliava ma Kolia insisteva inarrestabile e in tutta fretta gridò a Smurov Smurov apri la porta e quando quello l'ebbe aperta soffiò nel suo fischietto Peresfon volò impetuosamente nella stanza salta Peresfon sull'attenti attenti strillava Kolia balzato in piedi e il cane ritto sulle zampe posteriori si alzò proprio davanti al lettuccio di Giuscia avvenne qualcosa di inaspettato Giuscia trassalì e con tutte le forze che aveva si sporse di scatto in avanti si spiegò verso Peresfon e lo fissava come impietrito questo è Zueca gridò con la voce incrinata dalla sofferenza e dalla felicità e chi pensavi se no strillò Krasotkin a squarciagola con la voce squillante e felice e poi piegandosi verso il cane lo prese in braccio e lo sollevò verso Giuscia guarda vecchio mio vedi all'occhio guercio all'orecchio sinistro mozzo proprio i segni che mi avevi descritto tu l'ho scovato proprio grazie a quei segni lo scovai subito in 4 e 4 8 non aveva padrone non aveva nessun padrone spiegò voltandosi rapidamente verso il capitano verso sua moglie verso Giuscia e poi ancora verso Giuscia stava nel cortile sul retro di Fedoto ma anche se si era stabilito lì nessuno gli dava da mangiare era un cane randaggio e l'ha scappato via ma io l'ho trovato vedi vecchio mio vuol dire che quella volta non aveva ingoiato il tuo boccone se l'avesse inghiottito sarebbe sicuramente morto stecchito se adesso è vivo vuol dire che fece in tempo a sputarlo e tu non ti accorgesti che lo aveva sputato lo sputò ma si era comunque punto alla lingua ecco perché guaiiva correva e guaiiva mentre tu pensavi che l'avesse ingoiato doveva guaiare molto perché i cani hanno una pelle molto delicata in bocca molto più delicata di quella dell'uomo di gran lunga più delicata esclamava impetuosamente Colia con il viso acceso e raggiante di felicità il giusse invece non riusciva a parlare egli guardava Colia con i suoi occhi grandi e sparancati a bocca aperta e pallido come un lenzuolo se solo l'ignaro Colia avesse saputo quale effetto doloroso e deleterio poteva avere un momento simile nella salute del piccolo malato non avrebbe mai deciso di escogitare un simile tiro ma tra i presenti in quella stanza solo Agiosha forse era in grado di capirlo quanto al capitano si era trasformato egli stesso in un bimbetto Zueca allora questo è Zueca andava gridando con voce estagiata E Yuschenka questo è davvero Zueca il tuo Zueca mammina questo è proprio Zueca a momenti piangeva e io che non lo avevo capito esclamò Smurov con rimpianto bravo Krasotkin l'avevo detto che avrebbe trovato Zueca e l'ha fatto davvero e così l'ha trovato commentò con gioia qualcun altro bravo Krasotkin risuonò una terza voce bravo bravo gridarono i ragazzi tutti insieme e incominciarono ad applaudire aspettate aspettate Krasotkin si sforzava di gridare più forte di tutti vi racconto come è andata la storia questa è la cosa più importante allora quando lo trovai me lo portai a casa e lo nascosi subito lo tenevo chiuso a chiave senza farlo vedere a nessuno sino all'ultimo soltanto Smurov lo venne a sapere due settimane fa ma io gli assicurai che quello era Peretzfon e lui non indovinò la verità nel frattempo ho insegnato a Zueca tutti i giochetti guardate guardate soltanto che giochetti sa fare glieli ho insegnati in maniera da portarti un cane addestrato come si deve in forma perfetta vecchio mio per poterti dire ecco che bel cane è diventato il tuo Zueca adesso se aveste un piccolo pezzo di carne vi mostrerebbe subito un giochetto da farvi crepare dal ridere un po' di carne non ce l'avreste? il capitano si precipitò attraverso l'andito nella parte dell'isba delle padrone di casa dove anche loro cucinavano le pietanze colia nel frattempo per non perdere tempo prezioso con una fretta disperata gridò a Perezfon fa il morto e quello subito si capovolse si straiò su Pino e restò immobile con tutte e quattro le zampette in alto i ragazzi ridevano e Yusha assisteva allo spettacolo con il sorriso sofferente di prima ma la persona che apprezzò di più il numero del morto di Perezfon fu la mammina quella proruppe in una risata e si mise a schioccare le dita e a chiamare Perezfon Perezfon non si alzerà per nulla al mondo per nulla al mondo gridava Colia con aria di trionfo giustamente inorgoglito con nessun richiamo al mondo mentre se glielo ordino io quello scatta all'istante e si Perezfon il cane scattò in piedi e si mise a saltare con guaiti di gioia il capitano arrivò di corsa nella stanza con il pezzo di carne lessa non scotta si informò Colia prendendo il pezzetto di carne con aria pratica ed esperta no non scotta ai cani non piace il cibo che scotta guardate tutti guarda Yushenka guarda vecchio mio ma perché non guardi adesso che glielo ho portato non lo guarda nemmeno il nuovo giochetto consisteva nel far restare immobile il cane e mettergli l'allettante bocconcino di carne proprio sopra il naso proteso il povero cane doveva rimanere immobile con il pezzo di carne sul naso fino a un nuovo ordine del padrone senza muoversi di un millimetro anche per mezz'ora ma Perezfone fu trattenuto solo per qualche minuto piglialo gridò Colia e il boccone passò in men che non si dica dal naso alla bocca di Perezfone il pubblico naturalmente ebbe espressioni di stupore estasiato e voi avreste aspettato tanto a venire solo per addestrare il cane esclamò Yushenka con un involontario tono di rimprovero proprio per questo ribatte Colia con la massima ingenuità volevo farglielo vedere al massimo del suo splendore Perezfone Perezfone e Yushenka chiamò a sé il cane schioccando le sue magre ditina ma che fai deve essere lui a saltare sul letto e si Perezfone Colia dette dei colpetti sul letto con il palmo della mano e Perezfone si sferciò dritto da Yushenka quello gli settò le braccia al collo e Perezfone per tutta risposta gli leccò una guancia Yushenka si strinse il cane si allungò nel letto e nascose il viso sul suo pelo ispido oh signore oh signore esclamava il capitano Colia si risedette sul bordo del letto di Yusha Yusha ti posso mostrare un'altra cosuccia ti ho portato un cannoncino ricordi che te ne avevo già parlato di questo cannoncino e tu hai detto ah come mi piacerebbe vederlo ecco adesso te l'ho portato e Colia in tutta fretta tira fuori dalla sua borsa il cannoncino di bronzo faceva tutto di fretta perché egli stesso era il colmo della felicità in altri tempi avrebbe aspettato che sfumasse l'effetto suscitato da Perezfone invece questa volta si affrettò a dispetto di ogni indugio come a dire ora che siete tanto felici vi renderò ancora più felici egli stesso era il settimo cielo avevo addocchiato questo oggettino da un pezzo dall'impiegato Morozov è per te vecchio mio è per te a lui non serviva lo aveva avuto da suo fratello e io l'ho barattato in cambio di un libro della libreria di papà il parente di Maometo la follia salutare un libretto scandaloso pubblicato a Mosca un centinaio di anni fa quando la censura non c'era e Morozov è un grande appassionato di queste cose mi ringraziò anche Colia teneva il cannoncino in mano in modo che tutti potessero vederlo e ammirarlo Iliuscia si era sollevato e pur continuando ad abbracciare Perezvon con il braccio destro riminava il giocattolino estasiato la sensazione raggiunse il suo culmine quando Colia dichiarò di avere anche la polvere da sparo e che si poteva far sparare il cannoncino anche in quel momento stesso se la cosa non disturbava le signore la mammina chiese subito che le si mostrasse il giocattolo più da vicino e fu subito accontentata quel cannoncino di bronzo con le rotelline le piaceva da morire e si mise a farlo rotolare avanti e indietro sulle ginocchia quando le chiesero il permesso di sparare rispose con il più pronto consenso senza nemmeno capire che cosa le stessero chiedendo Colia mostrò la polvere ai pallini il capitano in qualità di ex militare si occupò personalmente di caricarlo inserendo una quantità minima di polvere quanto ai pallini chiese di rimandare a una prossima volta sistemò il cannoncino sul pavimento con la bocca rivolta verso un punto vuoto della stanza pigiò nel focone tra i pallini e accese un fiammifero seguì una magnifica esplosione la mamma trassalì ma poi scoppiò a ridere per la gioia i ragazzi guardavano in silenzioso trionfo ma il prestaciato di tutti era il capitano mentre guardava gli uscia Colia sollevò il cannoncino e lo regalò senza indugia di gli uscia con tanto di polvere e pallini questo è per te per te l'avevo preparato da tanto tempo ripete un'altra volta il culmine della felicità ah regalatelo a me no regalatelo a me quel cannoncino si mise a implorare la mammina proprio come una bimba il suo viso esprimeva l'addolorato timore che non volessero regalare quel cannoncino Colia ebbe un momento di sconcerto il capitano cominciò ad agitarsi mammina mammina corse subito accanto a lei il cannoncino è tuo tuo ma lascia che lo tenga gli uscia perché lo hanno regalato a lui ma rimane sempre tuo gli uscia te lo darà sempre per farti giocare facciamo che sia di tutti e due di tutti e due no non voglio che sia di tutti e due voglio che sia mio e non di gli uscia insisteva la mamma ormai sul punto di scoppiare a piangere mamma prendi prendilo pure gridò gli uscia all'improvviso Krasotkin lo posso regalare alla mamma si rivolse con un viso implorante a Krasotkin commettemendo che quello si potesse offendere che egli cedesse a un altro il suo regalo ma certo che puoi acconsentì prontamente Krasotkin e prendendo il cannoncino dalle mani di gli uscia lo porse alla mamma con il più affabile degli inchini quella proruppe persino in lacrime per la commozione egli scencacaro ecco chiama davvero la sua mamma esclamò commossa e senza porre tempo in mezzo riprese a far rotolare il cannoncino sulle ginocchia mammina permettimi di baciarti la manina e suo marito le si accostò in un balzo ed esegui immediatamente il suo proposito è il giovanotto più simpatico che abbia conosciuto quel bravo ragazzo lì disse la signora riconoscente indicando Krasotkin ti porterò tutta la polvere che vorrai gli uscia adesso la facciamo da noi la polvere da sparo Barovikov ha scoperto la composizione 24 parti di sal nitro 10 di zolfo e 6 di carbone di betulla si mescola tutto insieme si stempera con acqua fino a ottenere un impasto e si filtra attraverso un setaccio ecco fatta la polvere da sparo Smurov mi ha già parlato della vostra polvere ma papà dici che quella non è la vera polvere da sparo replicò gli uscia come non è vera polvere da sparo avvampò Colia brucia del resto io non so no no non volevo dire questo signore intervenne il capitano con aria colpevole io in realtà ho detto che la vera polvere da sparo non si fa così ma non fa niente si può fare anche come la fate voi signore io non so certo lo saprete meglio voi di me noi l'abbiamo accesa in un recipiente da pomata di pietra e ha bruciato magnificamente ha lasciato solo un po' di cenere quello era solo l'impasto ma se si filtra attraverso un setaccio ma del resto lo saprete meglio voi io non so eppure il pase di bulking lo ha frustato a causa di quella nostra polvere l'hai sentito? si rivolse ad un tratto a di gli uscia l'ho sentito rispose gli uscia e gli ascoltava Colia con interesse e piacere ne abbiamo preparata una bottiglia intera lui la teneva sotto il letto il padre la vide disse che poteva esplodere e lo picchiò seduta a stante voleva andare a lamentarsi di me a scuola adesso non lo fanno uscire più in mia compagnia adesso non fanno uscire più nessuno in mia compagnia non lo permettono nemmeno a Smurov ho una brutta fama presso tutti dicono che sono un temerario e Colia sorrise con aria sprezzante è cominciato tutto con la faccenda della ferrovia abbiamo sentito anche di quell'episodio esclamò il capitano com'è che vi sdraiaste è davvero che non vi spaventaste per niente quando il treno vi passò sopra non fu una cosa terribile il capitano adulava Colia in modo incredibile non particolarmente rispose Colia con non curanza quello che ha rovinato più di tutto la mia reputazione in città è stata quella maledetta oca e si rivolse da capo agli uscia sebbene cercasse di fingere un'aria non curante non riusciva a controllarsi perfettamente e a sostenere il tono che voleva ho sentito parlare di quell'oca scoppiò a ridere gli uscia raggiante me l'hanno raccontato ma non ho capito è vero che ti hanno processato di un'inezia così stupida e così banale hanno fatto un elefante come al loro solito si accinse a raccontare Colia con disinvoltura mi trovavo a passare per la piazza un giorno proprio nel momento in cui stavano portando le oche mi fermai a guardarle ad un tratto un ragazzo di qui Vizhniakov adesso lavora come fattorino dai Plotnikov mi guarda e dice che guardi a fare quelle oche io lo guardai era un brutto ceffo un grassone idiota sulla ventina sapete io non respingo mai il popolo amo parlare con il popolo siamo rimasti indietro rispetto al popolo questo è un assioma mi sembra che stiate ridendo Karamazov no oddio me ne scampi vi sto ascoltando con molta attenzione replicò Yosha con l'aria più ingenua possibile ma il diffidente Colia si sentì subito rassicurato la mia teoria Karamazov è semplice e chiara si affrettò a dire con rinnovato piacere io credo nel popolo e sono sempre disposto a rendergli ragione ma senza viziarlo questo è sine qua ma vi stavo raccontando dell'oca allora rispondo a quell'idiota e gli dico mi stavo domandando a che cosa pensano le oche quello mi guarda con un'espressione ebete e a che cosa pensano le oche vedi quel carro carico d'avena dal sacco sta cadendo giù dell'avena dal sacco sta cadendo giù dell'avena e l'oca allunga il collo proprio sotto la ruota per beccare l'avena lo vedi lo vedo benissimo mi fa lui ecco se quel carro dovesse muoversi appena appena in avanti taglierebbe o no il collo all'oca sicuramente lo taglierebbe replica lui e mi sorride a tutti i denti in un brodo di giuggiole beh allora andiamo giovanotto proviamo dico io proviamo mi fa lui non dovremmo stare molto a ingegnarci lui si mise alle briglie senza farsi vedere e io mi misi di lato per indirizzare l'oca il contadino in quel momento era indaffarato a parlare con qualcuno così io non dovete fare proprio nulla per indirizzare l'oca l'oca allungò da sola il collo proprio sotto la ruota del carro per beccare l'avena io strizzai l'occhio al giovanotto lui dette uno strattone alle briglie e crac il collo dell'oca era bello spezzato il caso volle che tutti i contadini ci vedessero in quel momento e giù un gran baccano l'avete fatto apposta no non apposta no apposta apposta schiammazzavano portiamoli dal giudice aggualtarono anche me anche tu stavi lì io hai dato manforte ti conosce tutto il mercato e in effetti è vero per una ragione o per l'altra mi conosce tutto il mercato soggiunse coli appieno di amor proprio partimmo tutti insieme per andare dal giudice portarono pure l'oca mi giro e ti vedo il giovanotto che aveva una gran fifa e si era messo a piagnucolare piagnucolava proprio come una femminuccia e il proprietario del bestiame che gridava con quel sistema se ne possono uccidere a bizzeffe di oche beh ovviamente c'erano dei testimoni il giudice conciliatore pose subito fine alla faccenda il giovanotto doveva dare un rublo al negoziante e poteva portarsi via l'oca ma in futuro non doveva più combinare tiri di quel genere ma quello continuava a piagnucolare come una femminuccia ma non sono stato io è stato lui a darmi le istruzioni e indicava a me io risposi con sangue freddo che non gli avevo dato nessuna istruzione che gli avevo solo esposto la mia idea in linea generale avevo solo parlato di un progetto il giudice Nefedov sorrise ma poi si stizi subito per aver sorriso farò presente la vostra condotta ai vostri superiori in modo che in futuro non vi capiti di avere tempo da perdere in simili progetti invece di stare seduto sui libri a studiare le lezioni in realtà poi non si andò a lamentare dai miei superiori lo avevo detto per scherzo ma la notizia si diffuse e raggiunse davvero l'orecchio dei superiori hanno le orecchie lunghe quelli quello che si è arrabbiato più di tutti è stato il professore di lettere Kolbaznikov ma da Danilov ha preso un'altra volta le mie difese Kolbaznikov in questo periodo ce l'ha con tutti come uno stupido cane ringhioso tu Ilyusha avrai sentito che si è sposato si è preso una dote di mille rubli dai Mikhailov ma la sua fidanzata è una megera di prima categoria e di infimo grado quelli della terza gli hanno subito composto un epigramma una certa notizia la terza classe ha turbato quel celtrone di Kolbaznikov a giuste nozze è convolato e continua su questo tono è molto ridicolo te lo porterò su Dardanilov non posso dire nulla è un uomo colto decisamente colto i tipi così li rispetto e non perché ha preso le mie difese eppure lo hai colto in fallo sui fondatori di Troia intervenne Smurov a bruciapelo decisamente orgoglioso di Krasotkin in quel momento gli era piaciuto molto il racconto dell'oca l'avete veramente colto in fallo? colse la palla al volo in tono adulatorio il capitano era a proposito dei fondatori di Troia signore lo avevamo sentito Ilyusha me lo aveva raccontato a suo tempo lui sa tutto papà più di tutti noi messi insieme disse Ilyusha in cadel canto suo fa solo finta di essere così ma è il più bravo della classe in tutte le materie Ilyusha guardava Kolia con una gioia sconfinata ma quella di Troia è una sciocchezza una bazzecola io stesso considero la questione priva di senso replicò Kolia con una modestia piena di presunzione era riuscito a recuperare appieno il suo tono sebbene si sentisse un po' a disagio egli si rendeva conto di essere sovraecitato e di aver parlato dell'oca per esempio con scarsa discrezione nel frattempo Ilyusha se ne era stato zitto e serio e in quel permaloso ragazzo cominciò a poco a poco a insinuarsi il dubbio non è che sta zitto perché mi disprezza perché pensa che io voglia tirarmi delle lodi in tal caso se osasse pensare una cosa del genere io considero la questione decisamente priva di senso tagliò corto un'altra volta fieramente ma io lo so chi fondò Troia disse del tutto inaspettatamente un ragazzino che fino a quel momento non aveva aperto bocca un tipo taciturno ed evidentemente timido molto grazioso sugli undici anni Kartashov si chiamava stava seduto proprio vicino alla porta Colia Colia lo guardò con aria grave e stupita il fatto era che la questione su chi fossero i fondatori di Troia era diventata un mistero per tutte le classi e per scoprirlo occorreva leggere lo Smaragdov ma nessuno disponeva dello Smaragdov tranne Colia ed ecco che un giorno il piccolo Kartashov quattro quattro in un momento in cui Colia si era distratto aveva sfogliato in fretta e furia proprio lo Smaragdov che stava in mezzo ai libri del compagno e aveva imbroccato la pagina dove si parlava dei fondatori di Troia era successo molto tempo addietro ma il ragazzo si sentiva in imbarazzo e non aveva avuto il coraggio di annunciare pubblicamente che egli sapeva chi avesse fondato Troia temeva le possibili conseguenze e che Colia potesse in qualche modo metterlo in difficoltà ma in quel momento chissà perché non era riuscito a trattenersi dal dirlo ed era da un pezzo che aveva voglia di farlo allora da chi fu fondata gli domandò Colia con alterigia guardandolo dall'alto in basso questi aveva già capito dalla faccia che il ragazzo lo sapeva veramente e quindi si intende si preparava ad agire di conseguenza nell'armonia generale si avvertì come si dice una dissonanza Troia fu fondata da Teucro Dardano Ilio e Troia sbottò il ragazzo arrossendo di colpo era arrossito a tal punto che faceva pena a guardarlo ma tutti i ragazzi lo guardavano fisso e continuarono a fissarlo per un minuto intero poi da un tratto tutti quegli sguardi passarono su Colia questi con uno sprezzante sangue freddo continuava a squadrare l'audace ragazzo in che senso la fondarono si sdegnò di dire infine e che cosa significa in generale fondare una città o uno stato che fecero arrivarono e misero un mattone per uno eh si è di una risata il ragazzo colpevole da rosa che era si fece cremisi taceva sul punto di scoppiare a piangere Colia lo tenne in quello stato ancora un minutino per parlare di eventi storici di tale portata come la fondazione di una nazione bisogna prima sapere che cosa ciò significhi lo ammonì in tono sentenzioso del resto io non attribuisco grande importanza a queste favole da donniciole non nutro grande stima per la storia universale soggiunse con non curanza rivolgendosi all'intero uditorio storia universale signore si informò il capitano colto da una certa repentina apprensione si storia universale lo studio della serie delle follie umane niente di più io stimo soltanto la matematica e le scienze naturali si stava pavoneggiando e gettò di sfuggita uno sguardo ad Agliosha temeva soltanto la sua opinione là dentro ma Agliosha continuava a tacere ed era serio come prima se Agliosha in quel momento avesse detto qualcosa sarebbe finita lì invece Agliosha non parlava e quello avrebbe potuto essere il silenzio del disprezzo colia raggiunse il colmo dell'esasperazione e poi quelle lingue classiche che ci insegnano sono pura follia niente di più vedo che ancora una volta non siete d'accordo con me Karamazov non sono d'accordo sorrise timidamente Agliosha le lingue classiche se volete la mia opinione in merito sono semplicemente una misura di polizia solo per questo sono state introdotte nella scuola gradualmente colia tornava ad ansimare sono state introdotte perché sono noiose e inebetiscono le facoltà mentali già la scuola era noiosa prima quindi che fare per aumentare la noia era priva di senso prima che fare per privarla ulteriormente di senso ecco perché hanno pensato alle lingue classiche ecco la mia opinione per filo e per segno e spero di non cambiarla mai concluse bruscamente colia su tutte e due le guance gli si erano formati dei pomelli rossi è vero assentì Smurov che aveva ascoltato attentamente con la sua vocetta squillante e convinta eppure è il primo della classe in latino gridò ad un tratto un ragazzo del gruppo sì papà dice così ma poi è il primo della nostra classe in latino intervenne anche Ilyusha e che c'entra colia ritiene necessario mettersi sulle difensive anche se quella lode gli aveva fatto molto piacere sgobbo in latino perché devo farlo perché ho promesso a mia madre di passare l'esame e poi perché penso che qualunque cosa si intraprenda vada fatta bene ma nel mio intimo io disprezzo tutta quella roba classica e tutta questa meschinità non siete d'accordo Karamazov perché meschinità sorrise di nuovo Ilyusha beh tutti i classici sono stati tradotti in tutte le lingue quindi non è stato per lo studio dei classici che si è introdotto in latino ma solo come misura poliziesca e per l'inebetimento delle facoltà mentali come non chiamarla meschinità allora chi vi ha insegnato queste cose esclamò infine Ilyusha stupito in primo luogo sono in grado di capire le cose da solo senza che me le insegnino gli altri e in secondo luogo sappiate che tutto quello che vi ho appena detto sui classici già tradotti l'ha detto il nostro insegnante Kolbasnikov alla terza è arrivato il dottore esclamò ad un tratto linoetica che era stata zitta per tutto il tempo infatti al portone si era fermata la carrozza di proprietà della signora Choklakova il capitano che aveva atteso il dottore per tutta la mattina si precipitò a rotta di collo al portone per riceverlo la mammina si raddrizzò e assunse un'aria dignitosa agli oscia si accostò di gli uscia e cominciò a mettergli a posto il cuscino linoetica dalla sua poltrona controllava inquieta come quello aggiustava il lettuccio i ragazzi presero a congedarsi in tutta fretta alcuni promisero di fare un salto quella sera stessa Kolia chiamò Perezvon e quello salto giù dal letto io non me ne andrò disse in fretta Kolia a di gli uscia mi siederò nell'andito e tornerò quando il dottore se ne sarà andato verrò con Perezvon ma il dottore era già entrato una sagoma imponente con la pelliccia di orso lunghe basette scure e un mento ben resato lucido superata la soglia si fermò di colpo come sconcertato forse pensava di aver sbagliato posto ma che cos'era questo dove mi trovo borbottò senza levarsi né la pelliccia né il berretto di lontra con visiera tutta quella gente la povertà della stanza la biancheria stesa su una cordicella in un angolo lo confusero il capitano si piegò in un profondo inchino davanti a lui è qui è qui vostra signoria mormorava con aria servile dovevate venire qui a casa mia vostra signoria signagiriev proferì con voce alta e pomposa il dottore e signor signagiriev siete voi sì signore ah e il dottore dette un'altra occhiata schifiltosa alla stanza e poi si levò di dosso la pelliccia davanti agli occhi di tutti scintillò l'importante decorazione che portava al collo il capitano afferrò la pelliccia al volo mentre il dottore si levava il cappello dov'è il paziente domandò con voce piena ed autoritaria precocità cosa pensate che gli dirà il dottore domandò colia parlando rapidamente che ripugnante cialtrone non trovate non posso sopportare la medicina e gli uscia morirà mi sembra scontato a questo punto rispose agli osce in tono accorato scellerati la medicina è scellerata comunque sono contento di avervi conosciuto Karamazov era da molto tempo che volevo conoscervi peccato solo che ci siamo incontrati in un'occasione così triste colia colia aveva voglia di dire qualcosa di ancora più caloroso ancora più affettuoso ma qualcosa lo disturbava agli oscia lo notò sorriso e gli strinse la mano ho imparato da tempo a rispettarvi come una persona eccezionale riprese a balbettare colia confondendosi e perdendo il filo ho sentito dire che siete un mistico e stavate in monastero so che siete un mistico ma questo non mi ha scolaggiato il contatto con la vita reale vi guarirà avviene sempre così con le nature come la vostra che cosa intendete per mistico e guarirmi da cosa domandò agli oscia leggermente stupito beh Dio e tutto il resto come non credete in Dio al contrario io non ho niente contro Dio naturalmente Dio è soltanto un'ipotesi ma devo riconoscere che è necessario per l'ordine per l'ordine del mondo e così via e se non ci fosse bisognerebbe inventarlo aggiunse colia cominciando ad arrossire e gli immaginò ad un tratto che agli oscia potesse pensare che egli volesse mettere in mostra le sue conoscenze e dimostrare di essere grande mentre io non voglio affatto mettere in mostra le mie conoscenze davanti a lui pensò colia indignato e avvertì una subitanea irritazione francamente non posso sopportare tutti questi battibecchi per gli occorto anche senza credere in Dio si possono amare gli uomini che ne pensate voi Voltaire stesso per esempio non credeva in Dio eppure amava gli uomini ci risiamo ci risiamo pensò fra sé e sé Voltaire credeva in Dio ma poco mi pare e mi pare che amasse poco anche gli uomini no disse a gli oscia con un tono calmo riservato e perfettamente naturale come se parlasse con un coetaneo o addirittura con uno più anziano di lui colia fu colpito proprio dall'incertezza con la quale agli oscia aveva espresso la sua opinione sul conto di Voltaire e dall'impressione che stesse affidando proprio a lui a colia la risoluzione di quella domanda e voi avete letto Voltaire? domandò agli oscia infine no non che l'abbia letto del resto ho letto Candide in traduzione russa in una vecchia mostruosa traduzione ridicola ci risiamo ci risiamo e l'avete capito? oh sì tutto cioè perché pensate che non possa averlo capito? naturalmente ci sono un mucchio di oscenità io naturalmente sono in grado di capire che si tratta di un romanzo filosofico scritto per comunicare un'idea colio ormai aveva perso completamente il filo io sono socialista Karamazov sono un incorreggibile socialista gli annunciò a sproposito socialista? scoppiò a ridere agli oscia e quando avete avuto il tempo di diventarlo? avete soltanto tredici anni se non sbaglio Kolia sussultò in primo luogo non tredici ma quattordici tra due settimane quattordici preciso Kolia montando in collera secondo non capisco affatto cosa c'entri qui la mia età la questione è quali siano le mie convinzioni non quale sia la mia età non è vero? quando sarete più grande vi accorgerete da solo che peso abbia l'età sulle convinzioni ho avuto pure l'impressione che le vostre parole non siano farina del vostro sacco ribattia gli oscia con aria modesta e tranquilla ma Kolia lo interruppe con calore andiamo voi sostenete l'ubbedienza e il misticismo dovete convenzionare che la fede cristiana per esempio è servita soltanto ai ricchi e ai potenti per mantenere nella schiavitù i ceti più bassi non è vero questo? ah so dove potete aver letto cose del genere e senz'altro ve le ha insegnate qualcuno esclamò gli oscia ma di grazia che cosa vi fa pensare che le abbia necessariamente lette? e poi non me le ha insegnate proprio nessuno sono in grado anche da solo e se volete io non sono contrario a Cristo era una personalità umana in tutto e per tutto e se vivesse ai nostri tempi si unirebbe certamente ai rivoluzionari e forse avrebbe anche un ruolo di spicco fra di loro non c'è dubbio su questo ma dove? dove siete andato a pescarle queste cose? che imbecilli frequentate? esclamò gli oscia per carità la verità viene sempre a galla mi capita spesso casualmente di parlare con il signor Rakitin ma anche il vecchio Belinsky pare abbia detto cose del genere Belinsky non ricordo non l'ha scritto da nessuna parte se non l'ha scritto dicono che l'abbia detto l'ho sentito da uno ma al diavolo e voi avete letto Belinsky? vedete no non che l'abbia letto ma ho letto il passo su Tatiana perché non fuggicono neghi? quello l'ho letto perché non fuggicono neghi? ma perché voi queste cose? le capite già? ma di grazia mi prendete per un mocciosetto come Smurov? sorrisi Coglia irritato da resto vi prego di non pensare che io sia un rivoluzionario sfegatato mi capita spesso di non essere della stessa opinione del signor Rakitin ho parlato di Tatiana ma sono assolutamente contrario all'emancipazione della donna credo che la donna sia un essere subordinato e obbligato all'obbedienza la femme tricotin come disse Napoleone Coglia sorrise per qualche ragione e perlomeno in questo condivido appieno l'opinione di questo pseudo grand'uomo io per esempio credo che fuggire in America abbandonando la patria sia una viltà anzi peggio che una viltà una sciocchezza a che scopo andare in America quando da noi si può essere di grande aiuto all'umanità proprio di questi tempi c'è una mole di fruttuoso lavoro che ci aspetta ecco ho risposto così come risposto a chi forse qualcuno vi ha invitato ad andare in America devo confessare che mi hanno incitato a farlo ma io ho rifiutato che rimanga fra noi Karamazov non una parola a nessuno l'ho detto soltanto a voi non ho proprio voglia di cadere nelle grinfie della terza sezione e prendere lezione al ponte delle catene ti ricorderai di quell'edificio sul ponte delle catene vi ricordate? magnifico perché ridete? non penserete che stia scodellando frottole? se sapesse che nella libreria di mio padre ho soltanto quell'unico numero di Colo Col e che non ho letto altro penso a Colia di sfuggita ma con un brivido oh no ma io non rido e non penso al fatto che mi abbiate mentito anzi è proprio il contrario perché tutto questo ahimè è la pura verità beh ditemi e Puschi l'avete letto? Oneighi intendo avete appena parlato di Tatiana? no non l'ho ancora letto ma voglio leggerlo non ho pregiudizi Karamazov voglio sentire tutte e due le campane perché me lo avete domandato? così dite Karamazov mi disprezzate molto? domandò a bruciapelo Colia e si impetti tutto davanti ad Agiosha come per mettersi in guardia fatemi il favore di dirmelo senza tante reticenze disprezzare voi? Agiosha lo guardò stupito ma per quale motivo? provo soltanto tristezza per il fatto che una natura incantevole come la vostra sia guastata da tutte queste volgari assurdità prima ancora che abbia cominciato a vivere non dovete preoccuparvi per la mia natura lo interruppe Colia non senza compiacimento quanto al fatto che io sia diffidente quello è vero sono stupidamente diffidente volgarmente diffidente ma ora avete sorriso mi è sembrato come se ho sorriso per tutt'altra cosa sapete perché ho sorriso? recentemente ho letto su una rivista un articolo scritto da un tedesco che ha vissuto in Russia sulla nostra gioventù studentesca dove scrive mostrate a uno studente russo una carta della volta celeste della quale fino a quel momento non ha avuto la minima nozione ve la consegnerà il giorno dopo corretta e anche un briciolo di cultura è una presunzione illimitata ecco il giudizio che dava il tedesco sullo studente russo ma ha pienamente ragione scoppiò a ridere Colia inaspettatamente ragionissima è esattamente così bravo a quel tedesco ma il babbeo non ha colto il lato buono della faccenda non vi pare la presunzione passipure è una caratteristica della gioventù si correggerà con il tempo ammesso che ce ne sia bisogno in compenso dalla nostra natura abbiamo uno spirito indipendente a partire da tenere età si può dire l'audacia del pensiero e delle convinzioni invece del loro servilismo da salumai dinnanzi alle autorità tuttavia il tedesco ha detto bene bravo al tedesco anche se i tedeschi meriterebbero di essere strangolati anche se sono in gamba nelle scienze meritano lo stesso di essere strangolati perché strangolati sorrisse agli osce beh forse sto dicendo delle sciocchezze lo riconosco a volte sono un bambino incorreggibile e quando sono contento per qualcosa non mi so trattenere e sono pronto a spararne delle belle ascoltate noi qui stiamo parlando di sciocchezze mentre di là quel dottore si sta trattenendo un bel po' l'arresto potrebbe anche visitare la mammina o quella ninoica dalle gambe paralizzate sapete quella ninoica mi è piaciuta mentre stavo uscendo mi ha sussurrato ad un tratto perché non siete venuto prima e con una voce con un tono di biasimo mi sembra buona da morire e degna di pietà si si adesso ci tornerete spesso e vedrete che creatura è quella ragazza per voi è molto utile conoscere creature di quel genere così potrete apprezzare anche molte altre cose che apprenderete proprio attraverso il contatto con quelle creature osservo osservò i oscia infervorato questo potrà aiutarvi a crescere più di ogni altra cosa ah come rimpiango e biasimo me stesso per non essere venuto prima esclamò colia con amarezza sì un vero peccato avete visto che gioia avete procurato al povero piccino e come si è afflitto nella vostra attesa non me lo dite voi riaprite la piaga dal resto me lo merito io non ci sono venuto a causa della mia presunzione della mia egoistica presunzione e della mia vile prepotenza dalla quale è una vita che non riesco a liberarmi anche se l'ho sempre combattuta adesso me ne rendo conto sono un mascalzone sotto molti punti di vista Karamazov no voi avete una natura incantevole anche se guastata e io capisco benissimo che abbiate potuto esercitare una tale influenza su quel nobile ragazzo dalla sensibile morbosità ribatte agli oscia con fervore e voi dite questo a me esclamò Colia e io immaginate un po' che pensavo l'ho pensato diverse volte da che sono qui che voi mi disprezzaste se solo sapeste quanto mi è cara la vostra opinione ma siete davvero così diffidente alla vostra età pensate un po' che quando eravamo in quella stanza nel guardarvi mentre voi raccontavate io ho pensato proprio che dovevate essere molto diffidente allora lo avete pensato che occhio fino che avete e così ve ne siete accorto ve ne siete accorto scommetto che è stato quando raccontavo dell'oca proprio a quel punto mi è venuto in mente che voi mi disprezzaste profondamente per la mia foga di mettermi in mostra e in quel momento vi ho persino odiato e ho cominciato quel mio sermone più tardi ho avuto l'impressione ma ci trovavamo già qui mentre dicevo se non ci fosse Dio bisognerebbe inventarlo che mi stessi dando troppo da fare per mettere in mostra la mia erudizione tanto più che quella frase l'ho letta proprio in un libro ma vi giuro che mi sono dato tanto da fare non per vanità ma così non so neanche io perché per la gioia quanto è vero il Dio per la gioia direi anche se è veramente vergognoso quando un uomo getta le braccia il collo di tutti per la gioia lo so questo ma adesso mi sono convinto che voi non mi disprezzate e che erano tutte mie fantasie oh Karamazov io sono profondamente infelice alle volte immagino Dio solo sa cosa che tutti ridano di me tutto il mondo e in quei momenti sono pronto a distruggere l'intero ordine delle cose e tormento chi mi sta attorno soprattutto mia madre Karamazov ditemi sono molto ridicolo in questo momento ma non pensate a questo non lo dite neppure esclamò Josha e che cosa vorrebbe dire essere ridicolo non capita in ogni momento a tutti di essere o sembrare ridicoli inoltre quasi tutte le persone che abbiano delle qualità oggigiorno hanno una paura terribile di rendersi ridicole e per questo sono infelici mi meraviglia soltanto che voi abbiate cominciato a percepirlo così presto del resto è un pezzo che sta notando questo e non soltanto in voi oggigiorno persino i bambini hanno incominciato a soffrire per questo è quasi una follia il diavolo si è incarnato in questo amor proprio e si è insinuato in un'intera generazione il diavolo proprio lui soggiunce Agliosa senza un'ombra di sorriso sul volto contrariamente a quanto si sarebbe aspettato Colia che fissava lo sguardo su di lui voi siete come tutti gli altri conclusa Agliosha cioè come molti altri solo che non bisogna essere come tutti ecco anche se tutti gli altri sono così sì anche se tutti gli altri sono così siete diverso almeno voi in realtà poi voi non siete come tutti gli altri voi adesso per esempio non vi siete vergognato di riconoscere quel che di brutto e di ridicolo c'è in voi mentre chi lo riconoscerebbe di questi tempi nessuno hanno smesso persino di sentire il bisogno dell'autocritica non siate come tutti gli altri anche se doveste essere l'unico non siate come tutti gli altri magnifico non mi sbagliavo sul vostro conto voi avete il dono di consolare oh quanto ho desiderato conoscervi Karamazov da quanto tempo cercavo di incontrarmi con voi è vero che anche voi avete pensato lo stesso di me poco fa avete detto che anche voi avete pensato a me è vero sì ho sentito parlare di voi e vi ho pensato anche e se in parte è stato l'amor proprio a indurvi a farmi questa domanda non fa niente sapete Karamazov la nostra mi sembra una dichiarazione d'amore disse Coglia con una voce strana vievolita e vergognosa non è ridicolo non è ridicolo non è affatto ridicolo e anche se fosse ridicolo non farebbe nulla perché è un bene sorriso raggiante agli osce e sapete Karamazov dovete ammettere che anche voi provate un po' di vergogna in questo momento lo vedo dai vostri occhi disse Coglia con un'aria furbetta ma anche felice perché proverei vergogna e perché siete diventato rosso siete stato voi a farmi arrossire scoppiò a ridere agli osce a rossi veramente beh mi vergogno un po' ma Dio solo sa perché perché mormorò ormai quasi imbarazzato come vi amo e vi apprezzo in questo momento proprio per il fatto che anche voi vi vergognate di qualcosa con me perché voi siete come me esclamò Coglia decisamente estasiato le guance gli ardevano gli occhi gli brillavano ascoltate Coglia voi fra l'altro sarete molto infelice nella vita disse all'improvviso agli osce per qualche ragione lo so lo so come fate a saperlo in anticipo confermò Coglia immediatamente ma benedirete la vita nel suo complesso proprio così furrà siete un profeta noi andremo d'accordo Karamazov sapete quello che mi delizia più di tutto è che voi mi trattiate da pari a pari ma noi non siamo uguali no non uguali voi siete superiore ma noi andremo d'accordo sapete per tutto quest'ultimo mese non ho fatto che dire a me stesso o diventeremo amici per sempre oppure sin dall'inizio ci separeremo da nemici e tali rimarremo sino alla morte e dicendo così voi naturalmente già mi amavate rideva allegramente agli oscia vi amavo vi amavo da morire vi amavo e sognavo di voi come fate a sapere ogni cosa in anticipo ma ecco il dottore signore mio dirà qualcosa guardate che faccia il dottore stava uscendo dall'ispa già intabarrato nella sua pelliccia e con il cappello in testa il suo viso aveva un'espressione quasi irritata schifiltosa come se temesse di sporcarsi toccando qualcosa ditta di sfuggita uno sguardo nell'andito e guardò agli oscia e colia con aria severa agli oscia dalla porta fece segno con la mano al cocchiere e la carrozza quella con la quale era arrivato il dottore si accostò alla porta d'ingresso il capitano guizzò alle spalle del dottore piegandosi quasi strisciando davanti a lui lo fermò per sentire il suo ultimo parere la faccia del poveretto era affranta lo sguardo atterrito vostra eccellenza vostra eccellenza è possibile fece per cominciare un discorso e non lo finì ma batte le mani in un gesto di disperazione pur continuando a guardare il dottore in un'ultima supplica come se la parola che questi avesse pronunciato in quel momento avrebbe potuto davvero trasformare la sentenza incombente sul povero ragazzo che fare io non sono il padre eterno rispose il dottore incurante pur conservando la sua solita gravità dottore vostra eccellenza ma sarà presto presto preparatevi a tutto rispose il dottore incisivamente scandendo ogni sillaba e abbassando lo sguardo fece per oltrepassare la soglia verso la carrozza vostra eccellenza per l'amor del cielo lo trattenne ancora una volta il capitano vostra eccellenza allora niente proprio niente potrà salvarlo adesso non è da me che dipende rispose il dottore spazientito tuttavia e si fermò all'improvviso ma se voi poteste per esempio mandare il vostro paziente immediatamente senza indugio il dottore pronunciò le parole immediatamente senza indugio non tanto con severità quanto con ira tanto che il capitano ebbe un sussulto a Siracusa allora in conseguenza delle nuove migliori condizioni meteorologiche potrebbe forse verificarsi a Siracusa gridò il capitano come se ancora non capisse più nulla Siracusa si trova in Sicilia tagliò corte ad alta voce colia per chiarire il dottore lo guardò in Sicilia Batiusca vostra eccellenza il capitano era smarrito ma voi avete visto allargò tutte e due le braccia per indicare le condizioni in cui viveva e la mammina e la famiglia no la famiglia non in Sicilia la vostra famiglia sul Caucaso agli inizi della primavera vostra figlia sul Caucaso quanto a vostra moglie dopo un ciclo di acque termali sempre nel Caucaso per via dei suoi reumatismi occorrerebbe mandarla subito dopo a Parigi dallo psichiatra le pelletier vi potrei dare un bigliettino da consegnarli e allora forse potrebbe verificarsi dottore dottore ma non vedete agitò un'altra volta le mani il capitano indicando disperato le spoglie e pareti di assi dell'andito questo poi non mi riguarda sorrisse il dottore ho riferito soltanto quello che poteva rispondere la scienza alla vostra domanda sugli estremi rimedi quanto al resto purtroppo non mi non temete medico il mio cane non vi morderà prurpe ad alta voce colia dopo aver notato lo sguardo alquanto impaurito che il dottore aveva lanciato a Perez che stava piantato sulla soglia una sfumatura di ira risuonò nella voce di colia anche la parola medico al posto di dottore l'aveva usata intenzionalmente e come dichiarò in seguito in senso dispregiativo che è questo? il dottore alzò la testa fissando stupito colia chi è costui? si rivolse ad Agiosha come per chiedere conto a lui è il padrone di Perez medico medico non vi preoccupate della mia persona sbottò colia un'altra volta sfum? ripetè il dottore non avendo capito che cosa fosse Perezfum sente il campanello ma non sa dove sta quello addio medico ci vediamo a Siracusa chi è costui? chi è? chi è? il dottore era proprio sul punto di perdere le staffe è uno scolaro della nostra città dottore un birichino non prestatevi attenzione le spose Agiosha rapidamente tutto accigliato colia tacete gli gritò Karamazov non è il caso di prestargli attenzione dottore ripetè un'altra volta con maggiore impazienza frustatelo frustatelo si dovrebbe frustarlo batte i piedi il dottore ormai completamente fuori dai gangheri sapete medico che io ho con me Perezfum e quello potrebbe pure mordervi ribatte colia con la vocetta tremante impallidito e con gli occhi sfavillanti si si Perezfum colia se dite ancora una parola romperò con voi per sempre gridò Agiosha in tono imperioso medico sei soltanto una persona in tutto il mondo che possa dare ordine a Nicolae Klasotkin ed è il qui presente cogli indicò Agiosha dunque gli obbedirò addio egli si mosse e aperta la porta passò rapido nella stanza Perezfum lo seguì di corsa il dottore rimase con me impalato per circa 5 secondi fissando Agiosha poi ad un tratto sputò e passò rapidamente nella carrozza ripetendo ad alta voce ma questo è questo è non so nemmeno io cos'è il capitano si slanciò per aiutarlo a salire in carrozza Agiosha seguì Kolia nella stanza quello era già presso il lettuccio di Giusha Giusha lo teneva per mano e chiamava il papà un minuto dopo entrò anche il capitano papà papà vieni qui noi fece per babbettare Giusha sovrecitato ma evidentemente troppo debole per parlare egli gettò in avanti le braccine deperite e abbracciò con tutta la forza che aveva il padre e Kolia insieme in un unico abbraccio stringendosi anche lui a loro il capitano fu presto squassato da sordi singhiozzi mentre a Kolia tremavano le labbra e il mento papà papà come mi dispiace per te papà gemmeva Giusha con amarezza Giusha e tornò a stringerli tutti e due forte forte nascondendo il viso sulla spalla del papà papà non piangere quando sarà morto prenditi un bravo ragazzo un altro scegli tu chi uno buono e chiamano Giusha e amalo al posto mio taci vecchio mio tu guarirai taci vecchio mio tu guarirai gridò Krasotkin come ha dirato ma a me papà non mi dimenticare mai continuava Giusha vieni alla mia tomba sai cosa papà seppellissimi vicino al nostro macigno dove andavamo a passeggiare io e te e vieni da me insieme a Krasotkin di sera e portate pure prezzo io vi aspetterò papà papà la voce di si spezzò se ne stavano tutti e tre abbracciati ormai in silenzio piangeva sommessamente anche Dino Etka seduta nella sua poltrona e vedendo che piangevano tutti proruppe in lacrime anche la mamma Giushenka Giushenka gridava Krasotkin improvvisamente si sciolse dall'abbraccio di Giusha arrivederci vecchio mio la mamma mi sta aspettando per il pranzo disse rapidamente che peccato che io non l'abbia avvisata si starà preoccupando tantissimo ma dopo pranzo tornerò subito da te starò tutto il giorno tutta la serata e ti racconterò un sacco di cose oh quante te ne racconterò e porterò pure Peretzvon ma adesso lo porto via con me altrimenti senza di me comincerebbe a durulare e ti darebbe fastidio arrivederci e si di corsa nell'andito non voleva piangere eppure una volta nell'andito scoppiò in lacrime Agiosha lo trovò in quello stato Colia dovete assolutamente mantenere la parola e tornare altrimenti gli darete un terribile dolore disse Agiosha con insistenza certamente oh come mi maledico per non essere venuto prima mormorava mormorava Colia piangendo senza più sentirsi in imbarazzo per le sue lacrime e in quel momento il capitano letteralmente balzò dalla camera chiudendo immediatamente la porta dietro di sé aveva il volto delirante le labbra gli tremavano stava dinnanzi ai due ragazzi e slanciava le mani al cielo non voglio un ragazzo buono non voglio un altro ragazzo mormorava in un sussurro selvaggio digrignando i denti se ti dimenticassi Gerusalemme che la mia lingua possa ma la frase gli fu quasi troncata da un singhiozzo ed egli si lasciò cadere sulle ginocchia privo di forza davanti alla panca di legno serrandosi il capo fra i due pugni si mise a singhiozzare e a demettere strani gemiti sforzandosi con tutto se stesso di non far sentire i suoi gemiti nella stanza Colia uscì di corsa per strada addio Karamazov verrete anche voi vero? domandò a Dagliosha in tono brusco e risentito sì vero sicuramente questa sera che cosa ha detto a proposito di Gerusalemme che cosa intendeva è da un passo della Bibbia se ti dimenticassi Gerusalemme se dimenticassi tutto ciò che mi è più caro se lo sostituissi con qualcos'altro che mi colpisca capisco basta così badate di venire e sì Redfond gridò ormai incollerito al suo cane e a passi lunghi e rapidi si avviò verso casa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti